Siamo in live Bella domanda Esatto, siamo in live, io sto mangiando un panino Ciao Lo so, sarebbe stato bello Sarebbe stato bello fare una live in cui crafto biscotti In cui mangiavo solo biscotti Ma poi mi veniva il diabete e quindi ho preferito farmi un panino Ciao Francesco Ciao Giuliano Ciao a tutti Eh sì, purtroppo solo di sabato mattina posso fare questa roba raga Ah Ovviamente sono curioso di sapere fin quando Andrò avanti Nel senso A una certa mi romperò le pale, io già lo so Bella Vinci E' buono il panino, si E' tacchino del dammer Molto buono Quando si inizia ora, finisco il panino Anzi fammi aprire minecraft Non so se avete visto la storia ma Ero con il computer acceso Da Tipo 20 24 Quasi un mese Il mio computer era acceso da un mese Cioè Non so neanche come sia stato possibile Ciao Silvia Ho dormito bene Sì, ho anche dormito un botto Ho dormito fino alle 8 Allora Allora Devo farvi anche vedere Le modifiche che ho fatto Ciao Camilla Ciao Francesco Ciao Dora Voi che cattiveria Che cattiveria Ciao Mattia Buon appetito Grazie Eh raga Non avevo fatto ancora colazione E quindi inizio così la live Ma va bene così Ma va bene così Allora Mi piacerebbe mettere la dashboard qui Minecraft Qui in alto Però mi piacerebbe leggere anche bene bene la chat Che non è proprio grandissima in questo momento Tra cosa Forse dovrei Buongiorno Albi Buongiorno Io non so raga in che cosa mi sto cacciando Ah tra l'altro sto cercando di ovviare al problema della musica Perché ovviamente Quando nella tua testa Vuoi stare in live Per diverse ore Cosa succede Che diventi pazzo Potenzialmente E quindi hai bisogno della musica Oltre alla chat che ti tiene compagnia O no Mi sembra di sì Allora mettiamo questo giù Ma così Esatto Mettilo qua Ce la fai? Voilà Non ce la fa Oh che è successo? Ok ora la chat Perfetto Da quanto tempo è iniziata? È appena iniziata State calmi Oh mio dio Che è successo? State calmi Sono ancora alzato sulla webcam Non è successo nulla ancora Ok stavo dicendo Quando Contatore dei biscotti raga Non sono riuscito a farlo Non saprei minimamente come farlo Il contatore dei biscotti Mello che non esista qualche sito web Non ne ho la più minima idea Quindi andremo a chest Andremo a chest Farò tutta la musica con la chitarra vicino al letto Ma guarda Ti dirò Non sono così bravo No no Ho trovato la soluzione Al posto di metterla in streaming Ciao Gioele Al posto di metterla in streaming Come faccio? Semplice Faccio la furbata E la furbata è questa Ho attaccato la cassa bluetooth Metto la musica dal telefono La metto bassa Così io la sento Voi più o meno Ma in teoria Non mi becca il copyright Io spero che non mi becchi il copyright Sennò poi Devo Devarare la live Mi dispiace Però raga Proprio fisicamente Fisicamente non ce la puoi fare A fare Ore e ore di live Senza un po' di musica O no Ho sbaglio Ho sbaglio Ditemi se sono pazzo Sì sono pazzo Potenzialmente Allora metto la musica bassa bassa Troppo bassa Ok Ora magari un po' la sentite anche voi Però è fattibile È fattibile potenzialmente no? Potenzialmente sì Vi dirò di sì Potenzialmente sì Allora Ora Ora Entro su minecraft Un attimo Devo mettere a posto l'inventario C'è un botto di roba Dovei craftare anche un'altra cesta potenzialmente Allora Questi sono Allora vi mostro Per prima cosa Le modifiche che ho fatto Perché ho modificato la lobby Ora vi faccio vedere Scena 1 Voilà Ci siamo Allora signore e signori Cosa è successo? Ma c'è l'audio di gioco? Ok sì Bassino ma c'è Allora Non si sente la musica tranquilli Perfetto Così magari voi non la sentite Però io sì E almeno mi dà un po' di conforto In questa cosa malata Che sto per fare E quindi sono felice Ok Allora Ho aggiunto A questa parete Che come vedete era tutta distrutta Doveva ancora metterci un botto di roba Ci ho messo Le due farm Che potenzialmente useremo un botto In questo In questa live Perché Ho riportato La farm di grano L'ho fatta uguale di qua Solo con due dispense Perché solamente due Erano quelli che servivano Che servivano Servivano Giocherei al nuovo di nuovo Non lo so Non lo so Ho fatto anche io la challenge Con i miei iscritti Visto che ci sono solo io Tra i miei iscritti Ho superato la challenge Facendo un biscotto Beh albi Mi sembra un'ottima Cosa Prova a rifarlo però Quando avrai Due milioni e mezzo Di iscritti Allora Al momento Queste sono le ceste Che mi avevo completato Ok E Ho cambiato idea Sul creare un cerchietto Di contorno Prima Farò tutte queste ceste Che sono accessibili A mano E poi Partiremo con quelle Extra Allora Stoppiamo anche quella live Lì Così non mi dà fastidio Allora Per il momento Ci sono un paio di dispenser Con i pochi bombili Che avevo Ora devo andare a prenderne altro E devo fermare anche un po' di bombili Tra l'altro Ho messo qui le ceste Ma giustamente non sono accessibili E Qua dentro Ci andrò a mettere Il Il Bon meal Un botto di bon meal Ora Di qua invece Mamma mia raga Ieri mi sono imbattuto In un video Di Il mango In cui Aveva un meccanismo Tipo questo Però Per il cacao Però era tutto complicato Con le rotaie E allora ho detto Sembra tanto complicato Allora sono andato nel mio mondo In creative E ho provato A fare qualcosa del genere E sono riuscito a trovare Una soluzione Più semplice Secondo me Di quello che ha fatto il mango Che è tutto dire E questo qui Abbiamo una leva Sotto un blocco Della giungola Con due dispenser Anche qui ci sono C'è un po' di bon meal Ma è quasi finito Perché l'ho provato E non ho Non sono ancora andato a prendere Il bon meal Quindi ora ci andiamo insieme E come funziona Se io metto qui Un pezzo di cacao E lo faccio crescere Pum 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 E poi attivo Il pistone Ora non ho Dove fare un'altra leva No non facciamo un'altra leva Spostiamo questa Inutile farne un'altra Se io attivo questo pistone Come vedete Distrugge il cacao E mi da Tre pezzetti Di cacao Che va benissimo Alla grande Ciao power Allora se io metto questo qui E lo faccio partire Vedete che il comparator Qua dietro Entra in loop Attiva i due dispenser Che al momento sono vuoti In più Attiva il pistone Che va come una macchinetta Cattivissimo Perfetto Secondo questo ragionamento Se Ora non c'è il bon meal Dovrei spostarla di qua Che tanto il grano È già un po' Fidiamo un po' di questo bon meal E lo mettiamo Di là Lo dividiamo Uguale Mettiamo un po' di qui E un po' di qua Guarda E un po' di qua Ora Copriamo qui Se io Faccio partire questo E becco il timing giusto Guardate cosa succede Guardate quanto cacao Riesco a generare A botte di 10 20 alla volta Con una facilità incredibile L'unica cosa è che Assolutamente Devo abbassare Il rumore Perché altrimenti voi Impazzite Ok così molto meglio Cosa succede Che mi ritrovo Con una quantità Incredibile Di cacao Molto più facilmente Rispetto alla farm iniziale Che avevo Quindi Cioè ragazzi Voliamo così Voliamo Ma proprio tantissimo Ora voi vedete solo particelle Verdi Cacao Che vola Guardate se mi giro attorno Trovo cacao anche per terra Perché ne genera così tanto Che vola via E quindi Ragazzi Siamo a cavallo Siamo a cavallo Non c'è l'audio di gioco Ah ma è vero Perché sono stupido Aspetta Aspetta Proprietà audio avanzate Audio desktop Ok Ora doveste sentire L'audio di gioco Quindi Lo posso rialzare un pochino Perché io Pensavo Cacchio Ora vi sparo Il pistone in faccia Boia Sentite un casino boia Ora dovete sentirlo Ma piano piano Ok Poco piano piano Quindi non dovrebbe darvi Troppo fastidio Si spera Perché a quest'ora È perché il weekend È l'unico momento In cui posso fare delle live Di questo tipo Senza preoccuparmi Di altri impegni Perché La cosa bella del weekend Che Allora Quando ero più piccolino Odiavo il weekend Ragazzi Ma in una maniera Impressionante Perché Io scrivevo le mail Mi aspettavo risposte Da tutti Però nessuno lavorava Il weekend E quindi Per me era un fastidio Incredibile Ora invece Il weekend Nessuno lavora Ed è una cosa positiva Perché posso concentrarmi Di più Sui video O su Magari Su modo Di fare qualche viaggetto E quindi Alla grande Ora io direi Creiamo un'altra Doppia cesta Un'altra cesta normale Da mettere accanto A questa che c'è al centro E la mettiamo Proprio qui Così Tranquillissima E ci mettiamo dentro Un po' della roba Che mi è avanzata Che non mi serve Ok In modo da avere Lo spazio libero Nel mio inventario Va bene Ci dovremmo essere Qui mi c'entra un botto di ossa Che è ciò che Voglio ottenere Ragazzi Sono in live Da neanche dieci minuti Voi Se iniziamo così Finisce male Ve lo posso assicurare Eppure Eppure notte Quindi andiamo a dormire Andiamo a dormire E poi andiamo Dovesti fare la live Anche della skyblock Eh ma Il problema della skyblock È che se faccio la live Nella skyblock Oltre al fatto che In una Cioè Se fassi una live seria La finisco Secondo me la finisco Per quello Cioè Oddio che è successo qua Si è bugato tutto Oh No Allora Stiamo a calmi Che Ce la fai? Ok Ce la fa? Ok È impazzito all'improvviso Quanto durerà Finché davvero Non collasso Cioè Non è vero Potenzialmente finirà oggi pomeriggio Se va bene I biscotti counter Lo fai? Allora Ho provato a vedere Se esiste qualcosa del genere Ma non sono riuscito A trovare nulla di Di sensato E facile Da inserire L'unica cosa È davvero Utilizzare le ceste Quindi Avere tipo un counter Tot Tot Doppie ceste Quindi Potrei fare io Un counter A mano Cato Però è che ho perso il libro Di merda Che mi sono Qualcuno si ricorda Perché non trovo più il libro Non so dove l'ho messo Il libro dove avevo scritto Quante doppie ceste Mi servivano Qualcuno si ricorda Quante erano Se qualcuno me lo va a cercare E me lo dice Ottimo Perché in questo modo Posso mettere un counter manuale Io Lo metto qui Un testo E lo aggiorno Una doppia cesta alla volta Cioè non una doppia cesta alla volta Ogni sessione di doppia cesta Insomma inserisco quella in più Che mi serve Allora 735 735 Ottimo 735 52 No 735 Mi ricordo anche io Cosa tipo 735 Ora mi va di fare i calcoli Quindi Scriverò 735 Allora Devo aggiungere un test Come si aggiunge qua Aspetta Aspetta Stiamo calmi Testo Testo Allora Arial No Che brutto Arial Siamo qualcosa Tipo C'è una cosa Di più bella Tipo Monaco Eh Monaco Bello Allora Testo Metto Uno Slash 735 Ottimo Raga A posto Sono 735 Ma Quanto mi state scrivendo Ho capito Ho capito Mamma mia Ah Sono 735 Diciamo che però Dovrei aver fatte 12 12 su 735 Quindi Devo scrivere qui Numero Di Doppie Ceste Di Biscotti Biscotti Guarda se io faccio una cosa di questo tipo E la metto Magari Un po' grande Non troppo Qui in alto Centrata Ma perché Ma perché no Vi piace così Lo so Non è nulla di troppo Di figherri Cacchio che figata Suri Però purtroppo Guarda Magari ci metto anche un'ombra Così è più facile da leggere Si può Giusto Opacità Opacità Metterlo al 100 Opacità dello sfondo No voglio Mi piace Avete metterci Non si può Cacchio Non si può mettere La Contorno Ok Contorno Messo nel contorno 2 Colore del contorno Nero Ovviamente Facciamo un po' più grande No 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 Perché è bianco Colore Deve essere nero Ok Così anche Quando succedono cose Mettete un altro colore No no Bianco è bello Guarda Ora Se guardo in cielo C'è tutto il contornino Nero Che va bene In teoria No In teoria Si Io con il full schermo Non lo leggo È vero che molti di voi Sono È vero che molti di voi Sono da telefono E allora Non rendiamo più grande Signori Non succede nulla Lo mettiamo Bello grosso Così Che dite Ciao IB Grande anche tu Allora Lasciamo stare qua I mille milla villager Ah Ero mezzo tentato Ragazzi Di fare la terza Farm di grano Ma Sinceramente Non penso ne valga la pena Perché se ho tanto Buon meal E io ho tanto Buon meal All'esposizione Soprattutto con questo Con questo grinder qui Non ne vale davvero la pena Rimarrà sul Canale Questa live Potenzialmente Sì Potenzialmente Sì Allora Signori Devo riempirmi L'inventario Di ossa Perfetto Fatto Facile Ovviamente Se avessi delle shulker box Sarebbe tutto Incredibilmente più semplice Ma non sono ancora Nel void E Non ho voglia Di andarci Sinceramente Non in questo momento Voglio provare a fare Più biscotti Possibile Quindi il momento In cui riempo Tutte le doppie ceste Che ho Alle farm Di grano Di grano Di grano e cacao Di Di bon meal Poi è una questione Di trovare argomenti Di cui parlare Ragazzi Albi top Ma poi Ma quanti soldi Sta spendendo Palindromo Noo pica Non sei pica No Cioè Dove Dove Si è scritto Pica palindromo Eh se sei pica Ti voglio bene Albi C'ho a disposizione 4000 euro Per un computer fisso Beh con 4000 euro Ti fai La bestia Delle bestie Ma tranquillamente Cioè Fai avere un computer Cioè Tipo il mio Il mio vale Intorno A quei soldi Lì Il mio un po' di più Ma è di due anni fa Quindi ora Potenzialmente Vale meno Di quello Perché Con la tecnologia È sempre così Passa un anno E tutto diventa obsoleto Quindi Eh già Comunque Ci sono un botto Di configurazioni Fighi Il mio consiglio è Vatti a cercare Qualche canale Youtube Tipo Linus Tech Tips O queste robe così Che fanno un botto Di Diciamo Come posso dire Fanno un botto Mettiamo tutte qua Per il momento Devo Allora Buttiamo uno Qui di questa terra E facciamo un botto No Devo stare più lontano Stai calmo Butta Butta questa terra Ok E fai un botto Di bombier Nella qua Devo mettere il silenzio sul telefono Assolutamente Allora Stavo dicendo Ci sono questi canali Che fanno un botto Di Di robe belle Fanno un botto Di robe belle Tipo ogni mese Fanno uscire Miglior configurazione Del mese E davvero Cioè lì Se hai Del buon budget Ti esce fuori Un computer Davvero figo Poi ovviamente dipende Se vuoi L'affreddamento Al liquido Se ti piace Piccolo Grosso Ci sono un botto Di fattori Però Insomma 4000 euro È un signor budget E se ti devo dire la verità Sono forse anche troppi Ti direi A meno che tu non sia Super appassionato Di pc gaming E allora ci sta Altrimenti ti direi Spendi nella metà Che viene comunque Un computer Incredibile E gli altri 2000 O risparmia lì Che ti serviranno Per qualcos'altro T'asporta con le rotaie Potrei Ma è uno sbatto incredibile Cioè Prefisco Andare avanti indietro Ti giuro Gli altri 2000 Magari Se fai lo youtuber Non lo so Magari ti compri Una videocamera O qualcosa del genere O qualcosa Insomma Su questa Su questa onda di pensiero Piesso che spendere Tutti i soldi Io ti direi Una buona regola Diciamo Che utilizzo È la seguente Ciao super nancy Non comprare Una cosa Ora ovviamente È un principio Che vale Se sei indipendente Ok magari Se questi soldi Non lo so Te li da Tuo padre Per fare il computer È un regalo È diverso Però Comunque In generale Una buona regola Di pensiero Secondo me Con cui mi sono sempre trovato bene È la seguente Non comprare una cosa Se non puoi permetterti Di comprarne Non comprare una macchina È tipo una regola Di economia Ok che ho letto In qualche libro Non mi ricordo neanche dove Però È una regola Con cui mi sono trovato bene Non comprare Una macchina Da 30.000 euro Se non puoi Se non puoi Puoi permetterti Di o mantenerla O di avere uno standard Di vita Decente Capito Non capisco tutte quelle persone Che magari spendono Tutto il loro stipendio Tutto il mese E arrivano a fine mese Che non c'hanno soldi È una cosa che io Davvero non capisco E niente È un piccolo Un piccolo consiglio Che vi posso dare Anche per Quelli di voi Che stanno iniziando a Non c'è bisogno di andare Nel crafting table Per il bom meal Hai ragione Però Nel senso Sono già là Non mi cambia nulla È una cosa molto Molto sensata Soprattutto quelli di voi Che magari Magari vanno all'università Capito O lavorano E hanno Uno stipendio Magari vivono all'estero Mi capita molto Che mi scrivono in direct Cose di questo tipo Perché non so Perché la gente Mi scrive Per chiedermi consigli Perché non ti scrive Economia Ma non Cioè Mi piacerebbe Ma Non seguire il corso Cioè Mi piacerebbe seguire il corso È un po' un casino Un po' un casino Però A partire i scherzi Sto seguendo Un corso universitario Senza effettivamente Andare all'università Seguendo un corso online Molto figo Però che parla di Marketing È un'altra roba Comunque Sto andando al lavoro Live la salvi? La salvo Cioè dovrei Dovrei salvarla Se tutto va bene La salverò Va bene Allora Quante ossa ho Non moltissime Già finite le ossa Perché avevo già usato Un botto in realtà Quindi devo mettermi anche A stare Fk qui Mentre aspetto che Nascano Tutte le cose Ti rendi conto? Ti rendi conto? Non ho capito Stepney Che è successo Stepney Cioè stepney in chat Non lo so Su riguarda che Ste è in live Leggi il commento di stefano Non ho capito Che commento Ci ha fatto stefano Non lo trovo Oh mamma mia La chat non è così Ottimale Un casino Allora Tututututututututututu Ora capisco Comunque non trovo il commento di stefano a ecco su di mi saluti va bene ciao Bene ottimo Vai torniamo a casa signori si torna a casa si torna a casa Secondo voi ragazzi quanto durerò partono le scommesse quanto durerò in live a fare biscotti Non lo so Non lo so è una bella È una bella cosa da pensare quanto potrei mai durare Bella domanda va bene comunque siamo a 12 ceste su 735 Potrebbe potrebbe andare peggio potremmo essere a zero potremmo dare anche molto meglio per un buon inizio va bene 5 6 ore 7 ore 4 ore 5 ore Siete molto ottimisti ragazzi posso dirvelo siete incredibilmente ottimisti Perché non ci metterò mai nella vita solo 5 ore Potrei metterci 5 ore se in qualche modo avessi una quantità di bombial illimitato Cosa che non è vera No perché Devo comunque farmare anche il bombial non è illimitato si ci sono alcuni spawner di scatola qualche parte però È un po' complicato Si sente la musica non è Si non è un problema nel senso perché ci parlo sopra così il problema è se fosse direttamente In come si dice In video perché lì te la beccano sicuro Night 404 Ti seguo il primo video di minecraft Un altro video mi ti giusto un morale Grazie mille Grazie mille Che ho potenzialmente Ok mi sembra una cosa sensata Quindi facciamo tutto il bombial che posso fare Voilà Ci sono Quasi Bella Tommy Fai così Ok e mettiamo questo qui Ottimo Ora andiamo di qua e riempiamo quest'altra Facciamo una e una Ma non voglio che sia poco equilibrato Voilà Ottimo Leggi il commento di high tech Oddio Eh raga purtroppo la chat viaggia in una maniera Vai a prendere il bambino alla farm di alberi Si 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 ce n'è un botto lì hai ragione Hai ragione C'era un botto ma non troppo eh ti dirò High tech high tech Beh raga Impossibile non li trovo È impossibile raga Tu 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 Leva la chat No 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 la chat mi serve ragazzi Sono in live a fare questa cosa È perché la chat mi dà supporto morale Senza chat non ce la farei Cioè se io sono in live proprio perché voglio il vostro supporto morale Voglio la vostra compagnia Ti senti qua io Già mi ammazzo faccio prima Non so se avete capito il livello Ok Ci siamo quasi Ecco questo è tutto il bombilla che avevo Dalla Dalla farm Ora prendiamo Un po' di cacao Iniziamo a farmare cacao Come se non ci fosse un domani Capisci? Questo è il livello Ciao Ci sono ormai da tre anni ci vediamo la feria di Bologna Vai È vero noi settimana prossima siamo a Bologna Il 10 10 se non sbaglio Lo conosci Lo conosco ma no copyright sound ragazzi è infamello È infamello un botto perché in realtà non sono senza copyright Ha messo io in passato lo usavo molto prima di avere una libreria personale con un botto di canzoni che posso usare Lo usavo un botto una copyright sound E ogni tanto mi arrivano delle e-mail da youtube Ah no copyright Come copyright Era una copyright sound E ora c'hanno copyright Eh sono infamelli Sono proprio infamelli C'è proprio cattivelli altro che Perché non farmi cacao vicino a mobgrinder Perché dovrei fare questa cosa di là Non è difficile da fare Però almeno se sono qui Nel frattempo Farma grano i villager Anzi farmano grano i villager Capisci quindi è molto È molto comodo come cosa Andate al novegrocomics No ragazzi Non avremo tante fiere quest'anno Ci saranno diversi ci sono diversi eventi Alcuni davvero fighissimi ragazzi Ci sono alcune cose work in progress Che sono davvero davvero potenti Però non faremo tanti tanti eventi in giro in giro Cioè tipo il comics di qua il comics di là Però come sempre quando facciamo un evento noi lo comunichiamo sui nostri canali Che sia su youtube o su instagram Quindi non vi preoccupate troppo Cosa è cambiato con l'articolo 13 Allora l'articolo 13 Cosa è successo Che l'articolo 13 Quanto Aspetta ferma un po' Quanto calcavo c'ho? Sono quasi ad un inventario pieno Va bene Cosa è successo con l'articolo 13 Che È stato rimandato È stato rimandato perché Per fortuna Tutti Tutti Con la campagna pubblicitaria di youtube Con tutti gli creator che si sono mobilitati Come ho fatto anch'io Hanno fatto sì che ci fosse un attimo di informazione generale su questa cosa E quindi un botto di gente si è lamentata Con i parlamentari europei Di questa legge che stava per essere approvata Con un testo sbagliato E quindi l'hanno rimandata L'hanno rimandata Quindi non è ancora del tutto finita Potrebbe ancora andare male Che è una cosa un po' triste da dire Però è vero Ehm Aspetta eh Oh Leggi Si diciamo che non è ancora finito tutto Potrebbe ancora Cadere tutto nell'apocalisse del mondo Però Insomma Già fatto che hanno rimandato Perché Un botto di gente si è lamentata E quindi devo trovare il testo giusto Mi sembra una cosa Molto molto figa personalmente Quanto cacao c'ho? Quasi un inventario pieno Allora Il problema di questa farm È che devi beccare sempre il tastino giusto Il Il coso giusto Il timing giusto Per farmare un botto E la cosa davvero brutta È che non ti danno esperienza queste farm Davvero brutta Altrimenti sarei già tipo 800 livelli di esperienza Poi ho farmato Ho farmato un botto di esperienza Ho fatto anche un botto di libri Non ve l'ho mostrati nell'episodio Ma c'è un botto di libri da parte È proprio un casino Lo so ragazzi Sono malato E vi devo dire una cosa Allora Se vi ricordate A che punto della vostra vita Vi siete iscritti Sul mio canale Al mio canale scusate Potreste effettivamente capire Qual è Più o meno Il vostro biscotto Perchè ora abbiamo fatto circa 40.000 biscotti 40.000 biscotti 40.000 biscotti I primi 40.000 iscritti del mio canale E hanno un biscotto dedicato a loro Perchè ovviamente va in termine Va in termine così no? Ovviamente È capito Tre anni fa Tre anni fa ci avevo già un po' di iscritti però eh Non mi ricordo di preciso quanti ma ne avevo già un po' E infatti c'è anche chi dice ma chi se lo ricorda? Come faccio a ricordarmelo? Giustamente Giustamente Allora in teoria dovrei avere l'inventario pieno È in faccia È in faccia Infatti guarda qua Pieno di cacao per terra Sembra che è passato un coniglio cacalato per terra Allora io direi che La situazione Sembra Diciamo Ottimale Ok? Perchè abbiamo un botto di cacao che viene generato Abbiamo riempito una doppia cesta Che non è male Una doppia cesta Vuol dire davvero un botto di biscotti Ok non è del tutto piena quindi continueremo a farmare un po' Se l'obiettivo è fare un botto di cacao E poi mettersi A Farmare il resto Giusto? No No Così non sta funzionando Scusa eh Ah vado troppo veloce per la cesta Non riesce a A recuperare? Non Ok ora si Perché però è che quando finisce il bombi al qui O lo riempi tu manualmente O è un casino boia Cinque anni fa Sei sette anni fa Boia ma è pieno di veterani qua Porca vacca Settecentocinquantamila iscritti addirittura Boia Poco due Bella Wow Boia quanti commenti tutto all'improvviso Difficilissimo leggere la chat Porca vacca Diecimila sul vecchio addirittura Boia raga Basta andare sul tuo canale E in informazioni Ah e ti dice quanto tempo fa ti sei iscritto No guarda Sette anni fa è il giorno in cui ho aperto questo canale Il mio canale però Non quando tu ti sei iscritto Non penso che ti dica quello Sinceramente Allora ragazzi Io vedo ancora particelle Verdi Quindi vuol dire che sta continuando a crescere Però in teoria tra un po' qua finisce il buon meal Cioè non penso che Riesca a tenere così Così frequente Tutto Vabbè È arrivato il momento di iniziare a craftare un po' di biscotti Così lasciamo il tempo che recuperi un po' Che entri un po' di roba all'interno di dispense E noi siamo tutti contenti No? Direi di sì Direi di sì Beh ragazzi Sono passati neanche Non è passata neanche mezz'ora Mi sono già rotto le palle In una maniera impressionante Ma proprio impressionante Però è che non Non me ne capacito ragazzi Non me ne capacito Quanto manca? Quanto Ah ok Era quasi finito Cacchio Vai 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 Devebbe essere finito ora proprio Ce la fa? Continua? No è impossibile che continui così però eh Sta continuando? Mi sta facendo altro cacao? Qua è pieno tra l'altro Quindi li metterò pieno? No Non ho mai nella vita li metterò pieno Sarebbe stato bellissimo Vabbè Lasciamo che si riempie un po' Va bene Allora 12 sono le ceste già piene di biscotti Potenzialmente sì Ora non le ho contate Sono andate a memoria Forse ne ho fatte altre Ora contiamo Vediamo di preciso quante sono Allora sono 3 6 7 8 9 10 Sono 10 in realtà ho sbagliato Cacchio Devo cambiare il testo Siamo a 10 10 10 e mezzo sarebbe Però devo contare solo quelle piene Quindi siamo a 10 su 12 Cioè 10 e si magari Siamo a 10 su 735 Bene Ora come potete immaginare Questo è quello Che farò Metterò qui tutte le mie cose Con molta calma Con molta tranquillità Andrò a prendere un po' di grano Ah mi faccio vedere tutto il grano che ho preso Perché ho farmato ovviamente La notte Mi ha fatto tipo 2 3 doppie ceste Però è per questo che ho messo qui la farm Di Di grano Diciamo manuale Perché qui è comodo Ma fino a una certa raga Perché ci vuole avere un botto di tempo Ci vuole avere un botto Un botto di tempo Suri come fare ad avere così tanti spettatori Faccio una cosa così noiosa Bella domanda Bellissima domanda Non ne ho la più minima idea Allora Partiamo da qui Devo prendere due di questi E Uno di cacao giusto Voilà Ok Iniziamo A craftare biscotti Da quanto sono in live? Da mezz'ora signori Da mezz'ora Ma io ho bisogno di alzare un po' la musica Se no qua mi Mi sarà la depressione Biscotti Piazziamo biscotti Ti dirò la verità Sai che forse vedere tutti questi time frame Non è la cosa più comoda del mondo Perché vuol dire Ciao bibi Ciao Vuol dire che non posso Accedere facilmente alle ceste Devo mirare Per accedere alle ceste Che non è propriamente la cosa più comoda Invece la cosa positiva È che Il crafting Di queste cose È una manna dal cielo Signore e signori Il fatto che Con un crafting Ti fai otto biscotti Mamma mia Mamma mia Lusso Lusso Cioè mi piacerebbe volare in questo momento Ok Facciamo così E così Abbiamo altre due ceste piene Quindi posso prendere altri due biscotti E metterli lì Guarda qua Uno E una due Ottimo Sì Il libretto del crafting Ragazzi Il libretto del crafting Penso sia la cosa La migliore invenzione La migliore aggiunta di sempre In questa roba Ma Per forza Perché io mi ricordo Che quando provai A farlo In minecraftita Stagione 1 Ma ti parlo di davvero 4-5 anni fa E avevo Molti meno iscritti di ora Cioè Ci avevo provato E non c'ero riuscito Non c'ero riuscito Perché C'erano talmente Tanti Crafting da fare Che Davvero Ti pigliava male Ti pigliava davvero male Perché dovevi O dovevi entrare Fare così Così Boom Io invece faccio due click E c'ho una marea di biscotti Cioè Molto meglio così Ma Impressionante Davvero Facciamo così E prendiamo un botto Di biscotti E li mettiamo Ora vi dirò la verità Potenzialmente Non ce la faremo A fare tutto In una live Perché Cioè Dovrei essere davvero Un maestro Dei biscotti Che cosa che non sono Magari lo diventerò Quando riuscirò A completare questa challenge Ma Per il momento La situazione È un po' grave Perché Impegnativa la situazione Molto impegnativa Ok Siamo a quanti biscotti 3 6 8 10 12 Siamo a 13 Posso modificare Incredibile Forse Forse mi converrebbe Ehm Piuttosto che fare così Finire tutto Tutto il grano E tutto il cacao E poi E poi E poi Fare il conto Di quante ceste ho Che dite? Mi sembra la soluzione migliore In realtà Sai che questa cosa Se mi levo le cuffie Così sento No forse no Perché se poi Mi spawno un creeper Davanti Mi cago addosso Ok Proviamo un'altra linea Di cacao Un po' alla volta E facciamo tutto Allora Metti a textodule 1.14 Ma non ce l'ho manco installata In realtà Non posso Già inizia A diventare complicata La situa qui Ehm Porca vacca Allora Sai cosa Forse mi conviene davvero Fare prima Tutti quelli per terra Quelli facilmente accessibili E poi Quando Ho finito tutti quelli per terra Sono davvero un buon punto Tra l'altro Oh Questa è piena E solo a quel punto Inizierò a fare delle scalette Per andare Cosa te ne fai di questi biscotti? Nulla Nulla Questi sono gli iscritti al mio canale Ogni Ogni biscotto Rappresenta uno di voi Ti rendi conto Quanto sono pazzo maniaco? Ok Ecco Va bene A posto Ah lei Ok Bisogna un altro biscotto Per lei che biscotti Non posso tenerli nell'inventario Perché altrimenti Poi Li metto nelle ceste Già lo so Ok Quello c'è Quello manca E niente Ti segura quando avevi i brufoli Ma hai ragione Ora non ne ho moltissimi di brufoli No davvero Pochi Eh Si fanno progressi Ok Apriamo questo E facciamo così E voilà Quando finirei questa challenge Sarei 3 milioni di iscritti Ma guarda Me lo auguro Ma ti dirò Penso proprio di no Appiazziamo questo Ok Boom Ok E anche questa è andata Cesta successiva Forse dovrei alzare un po' il volume in modo che anche voi possiate sentire la musica Vai così Questo è l'ipip tra l'altro Ti seguo dagli 800.000 iscritti Mamma mia Non so voi ragazzi ma mi sono già rotto il cazzo Non è vero non è vero sto scherzando Dai Non mi prendere sul serio Non sto scherzando Due biscotti Uno per cesta Ascolti No raga io non ascolto Niente Nel senso che ascolto tutto Mi spiego Come faccio io Molto Se Non ce la farò mai No Ehi cosa stai facendo Non buttare biscotti Biscotti per terra addirittura Che ti credi essere Vi Vi Madonna non ci arriverò mai Ho bisogno di un blocco Dicevo Io non ascolto niente E ascolto di tutto Perché Molto spesso Gio Ascolto Ce la fa? Ok Ascolto Le playlist casuali Ok? Quindi molta della musica che mi ritrovo È musica nuova che non ho mai sentito Che è una cosa molto figa in realtà Che vi suggerisco di fare Cioè ci sono periodi in cui magari Ascolto la stessa canzone in loop per 70 ore E non sto scherzando E ne sto esagerando tra l'altro E ci sono altre situazioni in cui Mi piace ascoltare solo cose casuali Io ad esempio penso sulla top Su una top di qualche tipo Va bene Allora Prendiamo Una quantità Credibile Di grano E una quantità incredibile di cacao Tra l'altro ridendo e scherzando Mi sono già fatto fuori una doppia cesta di cacao eh Porca vacca Cosa ti sei andato a impelagare man? Non ne... guarda Me ne pento Me ne sono già pentito in realtà Però Sono sfide no? Sono le sfide che ti danno un senso Nella vita Certo magari non sfide in cui devi craftare due milioni e mezzo di biscotti Però È già un buon inizio O no? Mi sembra un ottimo inizio Tra l'altro dovete fare voi il counter per me ragazzi Allora calcolate quanti biscotti ci sono in una doppia cesta Perché io ho perso il cacchio di libro Quindi non ho più i conti E dovrei rifarli Non è un problema rifarli Però Insomma Ci siete voi Fatemi compagnia e ditemi ste cose Allora Dovete tenere il conto Io quando aggiorno Il numero qua sopra Qua a fianco Qua a fianco Dove cacchio sta? Non ce l'ho coperto Voi mi dovete dire Esattamente quanti biscotti sono Ok? Quindi ad esempio ora Facciamo un test Con tredici doppie ceste Anche se sono di più Quante Quante cose Quanti biscotti ho? Allora perché non fai un balconcino In quarzo In libreria A due piani Per accedere il cesto in alto È l'idea iniziale che ho avuto L'ho detto anche in minecraftita Ma Ehm Per il momento Mi concentro su queste ceste di base Cioè raggiungerò magari Questo livello Che è facilmente accessibile Senza saltare E faccio le prime sei ceste Di tutto In questo modo Secondo me Faccio molto prima Ed è anche molto più Meno stressante Perché non devi saltare Fare cose Sai un casino boia Va bene Prendiamo tutte le cosette belle E andiamo a craftare i biscotti Ok siamo a Circa cinquantamila biscotti Ottimo Ottimo Poteva andare peggio Ehm Ora però già non mi ricordo dove sono tutti i biscotti Perché non sto salvando i frame I frame cosi Mannaggia a me Allora Ora tanto lo aggiorno eh Perché in realtà 13 Era più o meno quello che avevo fatto Nella scorsa Nello scorso video di minecraftita Quindi Non è precisissimo Sto andando un botto avanti Con questa doppia cesta di qua Doppia cesta di là Facciamo tutto Ah uno Uno mi ha già preceduto Ha detto che c'ho circa Ottantamila biscotti Al momento Va bene Chissà dobbiamo fare lo speciale Centomila iscritti Raga Ah Vediamo quante ceste piene ho Altre due Mettiamolo Tra l'altro c'è Il problema è che sto anche correndo A destra a sinistra Quindi in una certa avrò bisogno di cibo Ho un po' di carotte d'oro Ma non tantissime Quindi oggi per liggio niente video Ehm No alle due no Perché se sono in live ora no Non esce il video delle due Potenzialmente alle due Se tutto va bene sarò ancora in live Però Ehm C'ho mai quattro strap Sono 3456 biscotti ogni doppia cesta Ok Va bene Ehm Stavo dicendo Però alle sette potenzialmente si Perché è una Oggi come di gioco una certa finirò Registro il video delle sette E poi ci siamo Giusto? Allora vediamo quante ceste ho Sono 4 8 12 16 16 Sono 18 doppie ceste Fatemi il calcolo 18 Saremo a 60.000 biscotti Circa 35.000 biscotti ogni 13 doppia cesta che fai Vabbè se ragioni così Poi C'è un po' Un po' incasinato Personalmente Whatever you want Call me crazy Uhhh Attenzione Non abbiamo abbastanza cacao Back to farming Oh madonna mia Cosa sto facendo nella mia vita Che è una domanda vera È una domanda vera Mappe non ne fai più Dipende Non ho trovato mappe Particolarmente Devo beccare il timing giusto Ok Non ho trovato mappe particolarmente belle Ecco Quanti biscotti sono? Non ho capito mica 64.000 62 62.000 biscotti Va bene Eh 62.000 biscotti ci sta Perché no? Avete ragione il pazzo non sono io a fare la live Il pazzo siete voi a guardare me Mentre faccio la live Io non ho parole voi siete pazzi davvero Va bene Quindi ora la questione è Sto ricevendo dei biscotti? Non Non vedo tanti biscotti pensavo di più Ah eccoli eccoli che arrivano Perché stai guardando dei biscotti? E' una bellissima domanda E' una bellissima domanda I biscotti sono 60.000 Ottimo Chi pensa che per pranzo dovrei ordinare Dei biscotti O non so neanche se c'è tipo qualcuno che ordina biscotti Cioè a casa ho dei biscotti ma non sono biscotti col cioccolato tipo questi qua Se trovo Se trovo un ristorante che vende biscotti Pranzo con dei biscotti A costo di farmi venire il diabete Metto a pranzare con dei biscotti Boia Sarebbe un po' disagiante Perché i biscotti? Perché Ah questa è una bella storia in realtà Non ve l'ho mai raccontato penso Però in passato Quando avevo davvero pochi iscritti La prima linea della mia descrizione Era Iscriviti Perché abbiamo i biscotti E quindi Diciamo che il claim era un po' questo Se ti iscrivi ti regalo un biscotto E una certa Un commento mi ha detto Eh Sury però Dovresti Darmi un biscotto E ho detto Guarda al massimo ti do un biscotto di minecraft Anzi eravamo proprio in live E ho detto Guarda al massimo ti do un biscotto di minecraft E da lì è partita E partita sta roba della sfida Ma è partita diversi anni fa Cioè Tanti anni fa Tanti Tanti anni fa Voglio una canzone di biscotto tipo la PewDiePie Eh Boia Serve una cosa figa Serve una cosa figa Serve una cosa figa Trecissima Serve una cosa figa Ma che è questa? Questa è È Adele? Ah no Loren Dagle Non so chi sia Io sono tutta musica nuova Perché io vado sulle playlist con le randomiche Figo Quanto stiamo? Vediamo un po' di cacao grazie Ma Mi sento rumori strani Dammi tutto Quanto sto? Ok Vai così Claudia ora ho fame Ma no io no Mi sono mangiato Sai perché ho mangiato il panino prima di iniziare la live? Proprio perché sapevo che altrimenti veniva fame tipo a metà E poi avevo tipo interrompere e far cose Non ci sta Non ci sta Non eravamo cacciotti? Ora sono diventati biscotti Però ciao a tutti i biscotti Cosa sono? Follettina creation Ciao a tutti i follettini e follettine Eh no Cacciotti Ciao a tutti i cacciotti Che poi anche cacciotti è nato così a caso eh Proprio a caso perché c'era della cacciotta in casa se non sbaglio E non sto scherzando Ti rendi conto Ti rendi conto Ti rendi conto Io non ho parole Io sto Sto volando in questo momento ragazzi perché non so Entro quando Collasserò So che collasserò Non so in quanto tempo Però so che collasserò Ora scommetto che partirà tipo Il totomorto Tra quanto viene un infarto assurdi Per tenere premuto il tasto destro e generare i biscotti Eh? Bella domanda Si incastra il cacato dove c'è il meccanismo Si 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 è normale perché il pistone fa su e giù su e giù E quindi alcune entità rimangono intrappolate Però nel momento in cui stoppo tutto Ehm non è un problema Io ho quasi l'inventario pieno Che va bene Ultima serie tv vista su Netflix Allora l'ultima serie tv Allora ho visto Polar Il film Che è particolare Cioè perché Che è mezzo Cioè è mezzo Mezzo cazzone Un po' particolare Ehm Cos'altro Poi appena di quello ho visto Sex Education Che è molto bello in realtà Molto bello Cioè quando ho visto il trailer E tutto ho pensato Cacchio sarà Ehm Come si dice Sarà una cagata epocale In cui si scoprono e basta Invece è molto carino Perché c'è un È un teen drama Ok è un drama Metato in una scuola È british Però è carino E' carino Certo se avete meno di tipo cosa 16 Non so 16 anni 14 anni Insomma Non potete vederlo Cioè non è che ci sono Allusioni sessuali No no proprio Scopano E quindi non potreste vederlo Ehm Però va bene Mi è stato molto Molto carino Ora esce la seconda stagione Sex Education No non è che esce La registrano Probabilmente uscirà l'anno prossimo Perché ha riscosso un successo incredibile Ma anche a me davvero mi è piaciuto molto Ci sono dei personaggi davvero interessanti Vengono sviluppati Bene Sono dei bei personaggi Poi cos'altro ho visto Ehm Ah mi sono visto Ehm John Wick 2 Tipo Lo scorso weekend Perché non Non l'avevo mai visto Avevo visto l'1 Non l'ha visto il 2 Però ho visto il 3 e il del 3 E ho detto cacchio ma io non ho ancora visto il 2 Ma Bellissimo Cioè John Wick è davvero un Bellissimo Poi il concetto del continental Che esiste questa organizzazione segreta di assassini Ehm Bello Proprio bello Proprio bello Ehm E tipo Guardando John Wick 2 mi è venuto in mente questo Ho detto cacchio Se mai diventassi Plurimiliardario Cioè tipo Cazzo non so Jeff Bezos Con la di Amazon Una cosa che farei è creare una cosa di quel tipo In cui tipo Tipo come carte di credito no? Ci sono alcune carte di credito che ti danno dei vantaggi particolari Ok? Ehm Ci sono alcune che Costano In cui l'iscrizione costa davvero tipo Migliaia di euro l'anno Per avere una carta di credito Che ti da dei vantaggi Beh il principio è quello No? Tipo avere una carta di credito Con Con cui tipo Solo con quella carta di credito Puoi entrare In tot Il principio è di un club no? Un principio è di un club privato Però boh la figata è pazzesca Proprio bello 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 E io devo Farmare altro cacao Perché non è che posso andare avanti così Devo farmare un po' No no ho preso uno stack Non voglio uno stack Voglio quello la da 28 Ok Mangiamo un paio di carotine tra l'altro Che stanno per finire Quindi è una certa Abbiamo visto team wolf Non ho visto team wolf No no Non l'ho visto Oddio no Sai che forse ho visto un episodio Una volta Ma vuoi dimmi che è già finito quasi tutto Porca vacca È già finito quasi il bomb meal Porca vacca ragazzi Sarà impegnativa la situa Sarà molto impegnativa la situa Porca vacca No Ok Infatti ho tre raste ma poi mangia tutti i biscotti Eh no ho visto non conviene Team wolf forse ho visto una volta No non era team wolf Forse era vampire diaries Non so che c'era Che c'era uno che diventava tipo un lupo Ma ho visto tipo mezzo episodio una volta Perché ero in veneto a casa mia E lo sto guardando con mia sorella Però L'unica Cioè penso sia l'unica cosa che ho visto Ah trono di spade raga penso sia Cioè Ascolto mentre studio e le attesi tra un mese Eh beh in bocca al lupo Se non dovessi studiare guardando Non è che faccio i biscotti Però l'ho apprezzo Però l'ho apprezzo Vatti 5 virtuali Era team wolf allora ok Ok Ehm Verrete mai in Germania? Eh sì sì posso farvi la guida turistica Abito a Colonia così vedete il Duomo tedesco Ci sono già stato in Germania Sono stato a Berlino A Francoforte anche se sono nell'aeroporto In realtà quindi non conta Non sono stato a Francoforte Scherzare Sono stato a Colonia però A Colonia per il Gamescom 3-4 anni fa sempre Molto bella Colonia Mi piace un botto Colonia Davvero figa Penso sia una delle città tedesche Che ho visto E ora ne ho viste due Berlino non mi è piaciuta per niente invece Berlino non lo so Sarà che era tutto triste Cioè Berlino è Poi non lo so eh Magari Per come l'ho vissuta io Ma triste Proprio triste Sempre tutto nuvoloso Anche a Londra è sempre tutto coperto Nuvoloso Grigio Anche a Milano no eh A Milano ti dirò Da quando mi sono trasferito a Milano Tutti mi dicevano c'è la nebbia eh Ma in realtà no In centro Quasi mai E quando vai un po' in periferia Che allora si Ah no Milano Milano la nebbia No in realtà Poco Davvero poco anzi C'è bel tempo Cioè io abito a Milano da due anni Quasi Due anni e mezzo Non lo so Quasi tre forse No due anni Si due anni E Cioè C'è bel tempo a Milano A parte in inverno che ci sono alcune cose Di situazioni un po' particolari Ma per il resto c'è in realtà Bel tempo Sarà lo smog Sarà il riscatamento globale Non lo so Però Insomma Si sta bene E niente Berlino invece Non lo so Non è che mi ha Non mi ha ispirato molto Ti dirò questo Hai mai giocato ad overwatch? Si ci ho fatto anche dei video Ci ho fatto anche dei video Ehm Mi piaceva Era carino Solo che forse È troppo Particolare Poi il fatto che non scegli tu Che modalità fare Ehm Non lo so Però è un bel gioco overwatch Ed è un botto che non ci gioco Però è un bel gioco Mi spiega la storia di Asdrubale? Ma nessuna storia in particolare Nessuna storia Solo che Ehm Ok si ce l'ha una storia Come è nato Come è nato? Che Ehm Giocavo in un server E tipo Quando andavo a dormire Bisognava aspettare Che Tutti fossero a letto E tipo Scrivevo Anzi no In single player Una volta che andavo a dormire La sfida era scrivere Asd Ehm In chat Prima che L'omino dormisse effettivamente Ehm Ehm E se lancio il nuovo giorno E da Asd Si è trasformato in Come posso finire Asd? Asdrubale E quindi cercavo di scrivere Asdrubale in quei 0,5 secondi di tempo che hai Ehm Nulla Basta Questa è la storia di Asdrubale Non c'è una storia Super Super Calcolata Super figa Voi a quanti commenti Non lasco a leggere tutto E' finito Narcos Non ho visto l'ultima Non ho visto Narcos Messico Anche perché Si chiama Narcos Cioè non è Narcos Narcos Messico E' proprio un'altra cosa Ehm Poi se non ricordo male Non c'è più manco la gente pegna Che era l'unica cosa che mi aveva spinto a guardare Il Il terzo Che mi è piaciuto molto Non lo so Non lo so Non l'ho visto Non mi ha Non mi ha ispirato molto Narcos 4 Anche perché non l'ho proprio visto Quindi Dire di no Walking Dead ho visto tipo le prime tre stagioni E poi Si sono messi e perso troppo Cioè ora No Forse ho guardato di più Forse ho guardato nel primo quattro Forse quattro stagioni ho visto Forse cinque però ora sono tipo all'ottava Sono troppo avanti Troppo avanti Ma qui non capisco se effettivamente sto Ma qua è finito tutto Non stavo generando nulla vero? Non stavo generando nulla Ero qui da mezz'ora a fare assolutamente nulla Bello Va bene Ok Dovrei mettere No in realtà niente è finito il mio Finito porca vacca Non crescono più Me ne sono accorto ora Me ne sono accorto ora Me ne sono accorto ora Ehm vabbè Completiamo questo E completiamo Questo Il problema di tutto il bon meal che c'è Ehm Alla farm di alberi È il seguente Ehm Non C'è Non ci sono ossa C'è solo bon meal Quindi nel momento in cui mi empie un mezzo inventario di bon meal Finisce lì E non ho nient'altro da fare È un casino Ma hai cominciato a We met your mother? Ma sì Sì un boh Un boh C'è Sono tipo al dodicesimo rewatch Tranquillamente Ehm Ehm Diciamo il mio È il mio sempreverde a We met your mother Quando Quando pranzo Ho un episodio a We met your mother in sottofondo Quando Quando devo fare qualcosa Tipo se non fossi in live Ora avrei messo in sottofondo I met your mother Per fare tutta sta roba Capito? Che pensi del finale I met your mother Allora Non so se Molti di voi l'hanno visto Però Aspetta voglio fare un ragionamento sugli spoiler Perché stavo Stavo per spoilerare il finale No? Per parlarne Comunque Ehm Devo andare a prendere Un po' di roba Quindi prendiamo giusto un po' di cibo Per evitare di morire L'arco Piccone e frecce Voilà Così ho tutto lo spazio libero L'inventario Buona fortuna Beh Grazie Suriv Ci si Ci si prova Non so quanto durerò Oh Del grano Grazie Quanto grano c'è? C'è così tanto grano Ma è partito il coso? Dov'è il minecart? Ma che è successo? Si sta scaricando? Si sta scaricando? No non sta scaricando Dov'è il minecart? Scusa eh? Ma che è successo? WTF? E' esploso il minecart? Ma quanto materiale sto perdendo? Dov'è il minecart? Ok c'è un problema C'è un problema C'è un problema Perché dovrebbe esserci un minecart qui Che sta scaricando Forse non è partito abbastanza Devo salire di qua Che è successo? Perché ti sei fermato? Ah non è partito Porca vacca Penso sia un problema con l'hopper qua sotto Perché l'hopper non lo conta come un blocco intero Quindi devo fargli fare un giro Allora iniziamo a fare così Iniziamo a fare così Voglio sostituire Cos'era questo qui Con... no Errore Con un blocco intero Così riparte Questa è una cosa che non avevo controllato Se effettivamente funzionasse tutto come dovrebbe E quindi a questo punto Sostituirò questo qui Ecco perché Non mi sembrava di fare così tanto Più grano in più Perché non funzionava C'era un problema Però sono cose che Se non te ne accorgi Non te ne accorgi Ok ma è dalla prima stagione Che va avanti questa sfida Effettivamente sì Effettivamente sì hai ragione Quindi qua devo fare tipo un girello Con degli hopper Eh non è un problema Devo tagliare quello E far sì che vada tutto a destra Devo fare un paio di hopper Non è... È un problema Non è troppo un problema Aspetta prendiamo un po' di cobblestone così lo fixo già E poi devo piacere solo quello sotto Ti piace Harrow? Non l'ho mai visto Dicevo che tutte queste cosette tipo Le serie tv Marvel Qual è l'unica che ho visto? Ho visto... The Devil The Devil è l'unica che ho visto davvero Sta scaricando? Vai sta scaricando Così intanto posso poi fare quello che devo Così Ottimo Anzi aspetta Diciamo così Ok Ci siamo Perchè non puoi fare un'entrata più bella? Eh ma è... Diciamo che è tutto un work in progress Come vedi sto spaccando blocchi su blocchi quindi Diciamo che non può essere propriamente... Bellissima Cioè Un po' per forza di cose perché ci devo lavorare Quindi Per il momento va bene così Ho bisogno di altri due hopper giusto? Uno... Due hopper sì Uno che va lì e uno che va lì dentro Così riusciamo a fare il tutto Mi sembrava strano che non riuscissi a A fare effettivamente tutta sta roba Eh però aspetta ora mi sono riempito l'invento di roba che non va bene Mangia un biscotto? No guarda biscotti Mi piacerebbe anche di no Eh... Posiamo tutte queste cose Non ci serve... No aspetta Grandi semini devo posarli Ah devo anche prendere un secchio di lava per forza Per buttare via tutta sta roba Perché tutti sti semini raga non posso proprio Non posso proprio tutti sti semini Sono troppi semini Cioè non... No... Troppa roba Va bene posso andare alla fam di alberi A prelevare il bon meal Anche se sarà un po' uno sbatti Anzi sarà un bello sbatti a dirla tutto Si sta facendo notte ma non mi interessa tanto devo fare giusto giusto tre... Tre... Tre passi Mi ha visto Prison Break Prison Break Prison Break l'ho visto Se non sbaglio è uscita una nuova stagione però Ho visto tutte le stagioni che erano uscite in passato O hanno fatto un remake o qualcosa Quello non l'ho visto Fai una serie su Resident Evil 2 Resident Evil... Diciamo che i giochi horror non sono il mio forte Neanche i giochi di azione Diciamo che... Minecraft è il mio tipo di gioco O tipo gli RPG O gli MMO RPG Roba di questo tipo Sono le cose che piacciono a me Qua non c'è più bon meal Qua c'è un botto di bon meal Non sarà molto Perché in effetti non è molto Questo bon meal che ho preso E' il problema che devo fare ogni volta avanti e indietro Per portarlo su Ma per i biscotti questo ed altro signore e signori Fai i block Hai ragione sei un genio del male Per fortuna che t'ho letto Fai il bon block Grande raga Grande sto per fare 6.000 viaggi della morte Ok Sto volando Grazie mille raga Senza di voi non so Non saprei come fare Boom E' stata sul canale questa? Potenzialmente si Ti direi di si Ok Allora prendiamo questo 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 No Ok Allora posso anche Sminchiare tutti questi Questa è stata diciamo Il mio go to Per tutti i dispenser Visto che hanno craftati 22.000 Le vengo a prendere qui Si rimettilo anche nella mano secondaria Vabbè La mano secondaria è uno slot in più Non penso che cambia molto Allora Guarda qua Quanto bombe mi porterò a casa con questo Con questo meccanismo Ok Merci beaucoup raga Mi avete salvato la vita Mi avete salvato la vita Ti gusto di vedere instabile su netflix Ehm Non lo conosco Mi hai visto 13 reason why 13 reason why l'ho visto Che sarebbe 13 Ehm Carino 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 la prima stagione Non mi è piaciuto molto come è finita la seconda Senza spoilerare troppo Ma Ehm Diciamo che L'avrei sperato nel peggio Sinceramente Perché così Cioè Me lo aspettavo che arrivava il tipo Alla fine salvava la situa Un po' scontato Non so voi eh Però Un po' scontato Guarda il metodo cobischi Ma è pieno di roba bella su netflix Poi Raga Oggi è il 2 Ho visto le storie di netflix Su instagram Il 5 Mettono pirati dei caraibi La sconfitta di salazar E io spero che la sconfitta di salazar Sia solo il primo che mettano E magari Riescono a mettere Tutta la serie Dei pirati dei caraibi Perché da un botto che non me la guardo E cacchio raga Quanto è bello pirati dei caraibi Quanto è bello Ogni volta che viaggio Vado in giappone in america E finiamo sempre a disney world E andiamo sempre a fare le gioste Il piatto di carabie Ed è una figata pazzesca Non voglia Adesso ti seguiamo dal lavoro Con i miei colleghi Grande alessio Grande Cosa fai? Ah niente sto lavorando Mentre guardo un tizio Su minecraft Che fa dei biscotti Bello Bello Va bene Grazie raga In caso siamo in 10.000 A fare i biscotti Ti rendi conto Voglio bene The man in the eye castle E questo è su prime video Su prime video Sabe perché prime video non mi piace Perché è vero che è pieno di roba bella C'è un botto di gente che me lo consiglia Guarda è pieno di roba bella su prime video Baci Vai a vedere prime video Perché è pieno di roba bella Il problema è che Quando stavano per levare How I met your mother Da Da Netflix Perché erano scaduti i diritti E non li avevano rinnovati Non li volevano rinnovare Oltre ad incazzarmi con una faina E scriverli su Netflix E E Su Twitter e tutto il resto Ehm Mi hanno detto Su riguarda How I met your mother C'è su Ehm Su prime video Vado a vedere lì Sono Simone il ragazzo di Colonia Mi saluti E se andare mai di nuovo a Colonia Ricordati Che c'è un fan che ti fa la guida turistica Grande Simone Grande Semmai verrò di nuovo a Colonia Mi ricorderò di te Simone Va bene Comunque sono andato su prime video Perché Cioè Io proprio Io amo Met your mother Penso sia Una delle sitcom migliori Ehm Nonostante tutto quello che se ne dica A livello personale E non obiettivamente Una delle migliori Però personalmente La ritengo delle migliori Ehm Ehm Sono andato lì Però era una qualità orribile Era una qualità orribile A voi mette il madre Vedivo qualsiasi stessa cosa Fu l'HD Bellissimo Ah mette il madre Era 3,360 Ma Brutto E Dava proprio fastidio Proprio tanto 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 Dava fastidio E quindi nulla E quindi diciamo che C'ho questo preconcetto Su prime video Che Non mi piace Poi Magari uscirà la serie Tipo American Gods Abbiamo detto Che è fighissima Di vederla Però anche lì Diciamo che Quando ci sarà la serie Che dico cacchio bello Lo voglio vedere Anzi Potenzialmente Quando ci sarà Quel film O serie tv Vecchio Tipo Scraps Scraps Perché nessuno c'ha Scraps Che Scraps è una serie tv Con i contro cojones Che è bellissimo Scraps Perché nessuno c'ha Scraps C'era su Netflix E poi l'hanno levato L'hanno levato Non so perché C'è Scraps bellissimo È un po' demenziale Come comicità Però tutte le sitcom Sono un po' demenziali Però cacchio Quanto era bello Scraps Ecco Se mettessero Scraps Questo è marketing Comunque eh Se mettessero Scraps Su prime video Chi cerca Scraps E ha già Prime Now Andrebbe lì Perché È gratis Se hai Prime Now È incluso nell'abbonamento Che figata E già che sei lì Dopo magari che hai finito Le voci di Scraps Ti ritrovi lì E dici Guardiamo anche questo Guardiamo anche quello Che è quello che Che fa Netflix in realtà Il fatto che Nel catalogo ci sia Così tanta Disponibilità Anche di film Sei tv vecchie È per far sì Che sia più longevo come servizio E quindi duri di più Quindi la gente Ci abbia sempre cosa da guardare Ma anche per chiamare Gente che magari Non è attratta Alla novità Come può essere 13 reason why Che magari un adulto Non se lo guarda Però Uno va lì a guardare Il signore degli anelli Che c'è il signore degli anelli La compagnia dell'anello Su Netflix E si ritrova a guardare Ah indovina un po' Cacchio Sono finito a guardare 13 Oppure Narcos Capito che è più in target Che invece è una figata Fata figata pazzesca Basta blocchi Penso che ti bastino No Guarda non mi bastano Te lo posso assicurare Che non mi bastano Quindi cercherò di In primi in inventario Mangia le carote C'hai ragione Che sono quasi finte le carote Poi tra l'altro Ehm Non te lo dico che la qualità audio In Aumento ormai La sia molto più scarsa Rispetto all'italiano Nel senso che Il La qualità originale E beh Però se ci pensi È abbastanza normale Perché come funziona Quando tu adatti una serie tv Con il doppiaggio E poi lo doppi È È tutto Over Invece lì molto audio Magari è in presa diretta Quindi ovvio che la qualità Sia migliore Quando doppi qualcosa E per quello che molti film di Hollywood Li doppiano Cioè Prima li registrano E poi li ridoppiano Alcune cose Ehm È normale E Ti dà un senso di qualità migliore Potete dire i sugar box Non le ho Cacchio Non le ho Merda Non ce le ho i sugar box Ok ora li metterò troppo pieno Quindi Finisco questa roba E me ne vado Ehm Però no Io preferisco Molto Di più Le serie tv In lingua originale Ok E non parlo solamente dell'inglese Parlo anche di Tipo Casa di carta In spagnolo Ora perché io non capisco lo spagnolo Non lo capisco bene Ehm Anche se di sicuro è più facile imparare lo spagnolo dell'inglese potenzialmente Perché molti idiomi sono simili La fonetica anche più o meno ci siamo con l'italiano E E ci sta Quindi Oltre a tutto il concetto che si ricorda il mio video in cui parlo di come ho fatto imparare l'inglese grazie a Netflix Quando decidi di riempire 700 e 500 di biscotti pur di non fare i compiti del fine settimana Ma in realtà non ho convidi da fare Però Allora non è vero ho da lavorare a delle cose Però anche questo è lavoro per me Dai ragazzi Sì Sì Mi presenterò Un giorno a fare un colloquio di lavoro e nel curriculum ci sarà scritto Una volta ho craftato 7 6 7 milioni 2 milioni e mezzo di biscotti in Minecraft E quello che mi sta facendo il colloquio di lavoro mi dirà Wow sei assunto così proprio così No lo so che non è facile lo spagnolo ma anche l'inglese non è facile Devi entrare nel mood E' il motivo per cui C'ho troppa roba nell'inventario Allora iniziamo a riempire le ceste Forse dovevi farmi un'altra crafting table Dovevi spostare la crafting table Allora iniziamo a riempire e stiamo calmi per favore No ho cliccato il coso del mouse merda Troppo Vabbè Stavo dicendo? So che non è facile lo spagnolo Ehm Come nessuna lingua è facile da imparare Ok? Come i dialetti I dialetti sono difficili Se tu non sai un dialetto e provi a imparare un dialetto Buona fortuna Però Ma questi sono Ma forse sono grandi Cazzo Fica sta nazione Va bene Ehm Stavo dicendo? Si la lingua Ehm Però Ecco la cosa che non mi piace Del doppiaggio Cioè il doppiaggio in sé Siamo delle bestie ragazzi Siamo delle bestie Noi in Italia Penso abbiamo il doppiaggio migliore del mondo E lo dico con abbastanza sicurezza Perché ho Ho visto diverse serie tv doppiate in diverse lingue E come le doppiamo in italiano Non c'è storia Siamo davvero bravi Ok? Per parlare delle voci che abbiamo Abbiamo delle voci Proprio Cacchio Cioè basta che pensi Batman Ma anche il segno degli anelli O Cioè Doppiaggio davvero Da vincere dei premi Quello che non mi piace Del doppiaggio È l'adattamento Ok? Usa l'inventario rapido Cazzo Che cosa è l'inventario Questo Ah dici di svuotare questo? Hai ragione pure te Ehm 1 2 3 4 E 9 Allora L'adattamento Se io in Avemetture mother dico Che ne so Avemetture mother dico Ehm Pappa la fuffa Che in inglese vuol dire Pappare la fuffa Ok? In italiano Pappa la fuffa Non vuol dire nulla Perché va tradotto Nella traduzione però Nella traduzione di un luogo comune O di uno slang In italiano È complicato Quindi non è che dico Ah Gli adattatori non sono capaci È complicato Ed è per quello che Se capisci una lingua Diciamo che ha molto più valore Ehm Guardarlo In inglese ad esempio Ah usi il crafting dell'inventario Madonna raga Quanti commenti Avete ragione Avete ragione Avete ragione Ma stavo parlando Non era Ero sovra pensiero Facciamo così Avete ragione Avete ragione Non arrabbiatevi Mamma mia Che cattiveria Poi Va bene Allora Facciamo molto di sta roba Riempiamo la cesta E' bello che una certa Dovrò davvero Ehm Mettermi Qua questo è già pieno Riempiamo anche questo Ok Voglio che sia pieno al massimo Ok E tutto il resto Lo mettiamo di qua Per il momento Ma che cattiveria infatti Se li sai con un vpn per bene puoi guardare Se nel netflix puoi studiare su altri palesi Tipo io guardo bibantino in inglese su server giapponesi Ok Non lo sapevo Non lo sapevo no Molto figo Ehm Potrebbe essere comodo per guardare tipo Blacklist Perchè in giappone c'è blacklist Che in italia non c'è su netflix Perchè se non sbaglio tipo di skype o cose del genere Io c'ho anche nao tv Ehm Però non Non è comodo come Come netflix Player e tutto Non lo so mi piacevi più netflix Uh Ok Questo è pieno Pieno che questo Guaà Calculo in effetti Mi hanno scorato della figata Che sono Sti cosi Bellissimo Doctor Who Allora Ti dirò Doctor Who Il problema è questo Quando io ho visto Doctor Who Sono andato a vedere il primo episodio in assoluto tipo di 20 anni fa 30 anni fa Non lo so E il problema è questo Che quando guardi una serie di 20 anni fa può essere pure bello Ok Ma non ti piacerà mai O deve essere proprio un capolavoro E il primo episodio di Doctor Who ho detto cos'è sta cagata Poi Oh Lo so che tutte le nuove stagioni tutte le cose È tutta una cultura È tutto diverso Ed è molto bello potenzialmente È una delle serie migliori che esistano No? 50 anni fa ecco appunto Cioè ti rendi conto degli anni 70 No anni 70 non credo Comunque Se tu ragioni Ah cacchio l'hanno fatto 30 anni fa 40 anni fa Ah cacchio Kudos Grandissimi Complimenti Chapeau Però Assolbirsi 3, 4, 5, 6, 7 stagioni di quello È Un po' pesante Devi guardarti quelle nuove Quelle nuove ci proverò Sono sicuro che Avranno una possibilità in più di piacermi ecco Ora noi siamo a 18 ceste Su 735 Porca vacca Va bene Andiamo giù di biscotti quindi Andiamo Ce la facciamo? Ce la No? Ok Dobbiamo farci un inventario pieno Beh una cosa è sicura ragazzi Molto meglio così Che non Si è fermato? Ah no ok Che non l'altra famiglia cacao Per fortuna che ho trovato in questo modo Per fortuna Insatiable No non l'ho mai visto Invece quale è la vostra Sweets Allora Sweets Allora Sweets penso sia una delle serie Allora Lo sto dicendo di tutte le serie che mi state dicendo Però no Sweets penso sia una delle serie più belle Della sua categoria Ok È un po' tipo Bowler Bowler quello con The Rock Che io ho visto tipo un episodio però non mi ha gasato come Sweets Perché in Sweets Ti fa proprio venire voglia di vestirti con un completo Uscire di casa e andare a fare soldi Cioè Sweets ti fa proprio venire voglia di Studiare economia aziendale Che non c'è Non c'è Diciamo che praticamente non c'entra Ok È un dramma È un dramma americano È gossip Però dentro un ufficio di avvocati aziendali di altissimo livello Uno dei migliori studi Di Di New York Di Manhattan Ok Ma è una figata Macchine Ehm Faide aziendali Acquisizioni Takeover Ma è una figata pazzesca Poi c'è tutta la sotto Tutta la trama principale Che è diversa su Mike Che è tipo super intelligente E fa l'avvocato quando in realtà Non è stato tipo Cacciato all'università E quindi non ha potuto Ehm Diventare effettivamente avvocato Ehm Cioè Guardate sul primo episodio ed è Cazzo davvero figo Mi piace un botto Frate Yopper Che è successo? Ah cacchio Yopper Porca vacca Grande zì Me l'ho completamente scordato Devo andare a craftare due hopper Uh Devo posare questa roba Una serie di sfortunati eventi L'ho vista tutta Ho visto tutta L'ultima stagione mi è piaciuta Il finale Caruccio Caruccio Perché è bello come Vabbè non posso parlarne Perché sarebbe uno spoiler proprio troppo cattivo Però bello Mi è piaciuto Mi è piaciuto Non male È molto particolare È per famiglie ovviamente È una serie tv per famiglie Ma Allora Neil Patrick Harris è uno dei miei attori preferiti Anche per Grazie a A Barney Stinson E a We met your mother Diciamo che Merita Merita E poi ci sono un botto di quei bei messaggi Sul leggere E su come leggere Cioè È molto per ragazzi come serie tv Però ti dirò L'ho apprezzata molto Mi è piaciuta Anche le carote Si deve farmi delle carote in effetti Sai che no Forse delle carote ce le ho Devo solo farle d'oro Allora ho bisogno di un po' di ferro Devo fare due opere abbiamo detto Devo fare due ceste Voilà E Due opere Ok Ehm Poi C'ho un po' di oro Non tantissimo Facciamo tipo Giusto un po' di carote Dove sono Dove averne un po' Ah cacchio Non ne ho tantissime Vabbè andiamo Andiamo alla macchina delle carote Orange is the new black Orange is the new black Anche molto carina Cacchio Cioè siamo pieni di serie tv molto belle Però vi voglio anche spiegare perché Secondo me Le serie tv sono Ora Prendete le mie parole con le pinze Black sales bellissimo raga Ma che me lo dite a fare Ehm No voglio dirvi perché Secondo me le serie tv Hanno una marcia in più Rispetto a Ai film Perché Una serie tv Cacchio È infinita Se è una serie tv fatta bene L'equivalente di un film È una puntata Capito? C'è una C'è già uno stack di carote Ah cacchio Nelle 64 nelle casse E chi l'ha visto? Ah cacchio è vero C'avete ragione Vabbè Ehm Ai tanto queste mi bastano Mi sta facendo notte tra l'altro Quindi posso approfittarne per dormire E raga son cecato io Che cacchio ne sapete voi Ehm Cose più se di Dexter You Salvation Salvation non l'ho visto Dove avete visto le carote voi? Ah queste cacchio E non l'avevo vista raga Tutto colorato Non si era un Kaiser qua dentro Allora Non ho molto oro Però Posso fare Posso farne altro In realtà dobbiamo andare a prendere un po' del nether Magari ne approfitto di prendere un po' di quarzo Potrebbe essere una soluzione Vabbè per il momento Per il momento andiamo così Andiamo a fangala E queste posiamole qui E ok Allora Ho i due hopper Che è ciò che mi serviva Quindi possiamo tornare Nell'inferno Io ho visto Lucifer E' bellissimo No non l'ho visto Shameless non l'ho visto Under the dome Non l'ho visto E' pieno di robe che non l'ho visto Comunque stavo spiegando Perché Ehm Abbiamo così tanta voglia di serie Perché ci parliamo così tanto di serie tv Perché una serie tv E' lunga La serie tv E' la cosa più paragonabile a un libro Ok Perché i libri è vero I libri non tutti ci hanno voglia di leggerli Ok Ehm Ehm E' normale Ci sta Non c'è neanche da biasimare troppo Ok Perché magari c'è gente a cui davvero non piace Però I libri I libri Ti danno una visione Del L'utente Dell'utente Del personaggio Che altre cose non ti danno E un film non ti può dare la stessa Ehm Discrizione di un personaggio Che ti dà Un libro Perché un libro sono Duemila pagine Capito? E quindi è così Lo sai che nella serie delle sette nel monumento Può attivare la luce per vedere quali sfide hai già fatto? Non lo sapevo Come si fa? Boh Non lo so Sicuramente qualcuno mi ha scritto il commento e me lo son perso E poi me lo guardo Comunque capite cosa intendo Il libro è il must Ok Non a tutti piace leggere Ci sta Forse anche un po' per colpa della scuola Per il fatto che A scuola ti obbligano A studiare A leggere Quando uno legge per piacere però è tutto completamente diverso Va bene? Con il bottone per terra Ottimo Va bene Allora magari stasera lo faccio Nell'episodio delle sette Ehm La serie tv È quella via di mezzo tra un libro E un E un film Perché il film è troppo breve Non puoi raccontare un film Un libro in un film Infatti molti film Ne vengono fatti Trilogie O serie complete Tipo guarda Harry Potter Ma Allo stesso modo Harry Potter Se tu leggi i libri Io non l'ho mai letti tutti Avrei voluto Non l'ho ancora fatto Forse inizierò Però ci sono tante di quelle informazioni in più Che è Incredibile Quindi soprattutto se ti son piaciuti i film Poi vai a leggerti il libro Mamma mia Tutto un altro mondo Boh Bellissimo Se tu finissi Tu che lavoro vorresti fare L'imprenditore Vorrei prendere i soldi che ho fatto in questi anni E investirli in giro in cose Penso sì Penso Che è quello che sto cercando di fare anche ora tra l'altro Ehm E quindi niente Per questo dico Cacchio le serie tv Tanta roba Tanta roba Tanta roba E poi un'altra cosa davvero bella Davvero bella Dei libri E che Ehm Non devi per forza leggerli Puoi farteli leggere Mi spiego E' una cosa che Ho Non è che ho scoperto recentemente Perché la so da un po' Però che ho provato Ho provato a dargli una Diciamo una chance recentemente a questa cosa Cioè agli audiolibri Gli audiolibri Sembra una cagliata Ma in realtà Wow Cioè Sto camminando Sono in auto Sono in metro Sono in treno Sono da qualche parte Al posto di ascoltare la musica Che io adoro la musica L'ascolto tantissimo Ad esempio ora in background C'ho la musica Perché wow Però Se hai voglia di qualcosa Se hai voglia di leggere un libro Ma non hai voglia fisicamente di leggerlo Puoi fartelo leggere da qualcuno Molte o spesso anche dall'autore stesso Costa come il libro Hai l'audiolibro E tu ascolti E' come ascoltare qualcuno che ti spiega delle cose Chi ti racconta una storia Ed è davvero molto molto bello E' molto comodo Ed è un modo per Diciamo assimilare comunque informazioni Fighissimo Gli hopper Li ho messi Vediamo se funzionano Teoria funziona Li ho messi gli hopper Mi fate neri dubbi Li ho messi Li ho messi Li ho messi gli hopper Disattiviamo questo per il momento Vediamo se funziona Non funziona Non funziona Vedete roba per terra Non vedo niente per terra Funziona Funziona Prefice libro o kindle Allora il kindle Ce l'ho Ce l'ho là dietro Nello scaffale Ma l'ho usato davvero poco Perché quando hai un telefono come il mio Cioè un telefono davvero grosso Cioè io ho l'XS Max E' una bestia E' una bestia di telefono Ehm Esiste l'applicazione di kindle In cui hai lì i libri E lo puoi scorrere dal computer Ed è molto comodo Ed è più comodo del kindle Perché c'è una funzione bellissima Che ti permette di scorrere come se fosse su Instagram Quindi dal basso verso l'alto all'infinito Senza girare le pagine Invece su kindle devi cliccare Poi è Non lo so preferisco il telefono E' vero che c'hai il problema della batteria Che è una cosa dedicata Però Insomma mi sono sempre trovato bene anche a leggere sul Sul telefono Poi io In realtà non è che leggo molta narrativa eh Io leggo Non è che leggo neanche così tanto eh Ma non voglio fare la figura dell'intellettuale Però Quello che leggo sono per lo più saggi O non fiction comunque Roba esperienze di vita Libri di informazione Roba così Il mio classico Disney preferito Bella domanda Wow Il mio classico Disney preferito Oddio sai che non lo so Provate a dirmi dei nomi Perché non ho manco una lista da dire Perché per me Il classico Disney è anche Disney Pixar no? Ad esempio io ero piccolo ho visto Monster Spirit Spirit se non sbaglio è Disney No non è Disney Spirit Si forse si Carica di 101 Ok l'ho visto I Stogatti Cars 1 2 3 Cars Cars l'ho visto E' il primo film che ho visto al cinema Cars Penso sia stato il primo film che ho visto al cinema Si Winnie the Pooh C'è un film di Winnie the Pooh Monster & Co l'ho visto Monster & Co invece Penso sia stato il La prima cassetta La prima cassetta Ora Quando ero piccolino io E mi sento vecchissimo a fare questo discorso C'era le VHS C'erano le cassette Grosse Che andavano inserite E tu puoi vedere le cose Spirit e Dreamworks Ok Toy Story Ah Toy Story certo Toy Story Però non ho visto la piccola Toy Story ho visto che ero già un po' più cresciutello Monster & Co invece Loce spaziale Bellissimo 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 Lattatouille anche bello Lattatouille che c'è il topolino Lattatouille bello Bello si Mi sono appena svegliato ho sentito un rumore strano ragazzi Ho sentito un rumore come se ci fosse un creeper S'ho sperimentato Ma è vuoto? No non è vuoto Vai Il pianeta del tesoro Ah l'isola del tesoro L'isola del tesoro Che c'è il tipo che viaggia nello spazio Bellissimo quello Che c'è la colonna sonora di Degli 883 Di Max Pezzali Ci sono anch'io Ta ta Visto? Buongiorno Ciao Luca Trio Vi porta le antfarm Raga ma le antfarm lo portate 16 volte Cioè Boh Non lo so Potrei eh Perché ormai tipo lo porto una volta all'anno Potrei Però Mi piacerebbe portare qualcosa di nuovo Se non trovo niente di nuovo Si potrei anche portarlo Però mi piacerebbe Portare anche qualcosa di nuovo Cosa di più moderna E' il pianeta del tesoro Ok il pianeta del tesoro Ci sta Film Marvel preferito Film A film Non lo so Avengers Ti direi Avengers Si Ti direi Avengers Come catena però Cacchio c'è Sono davvero belli i film degli Avengers E' Boia Ora cosa? A marzo esce l'altro Ad aprile Ad aprile esce il prossimo Endgame Mamma mia Ho visto il trailer spaziale Che c'è C'è Iron Man nello spazio Che praticamente sta per morire Non ha più ossigeno e tutto Poi sicuramente lo salveranno eh Però Bello cacchio Bello Le mie scarpe preferite E' O le Vans O le Air Force One World of Warcraft World of Warcraft World of Warcraft C'ho ancora Pierpompeo io eh Da qualche parte Su World of Warcraft Ahia mi fa male il collo Ho dormito male stanotte mi sa Cioè ho dormito Una posizione sbagliata Stanno in palestra? Si in realtà da una settimana che non vado Perché mi era finito il certificato medico Quindi ho dovuto aspettare Che si liberasse Il medico per andare a fare la visita Tutto bene Quanto pare sono sano E quindi ora posso continuare Non ti piace Fortnite? Allora non è che non mi piace Cioè Mi piace quando ci gioco in gruppo E Quando cazzeggio Se devo fare le solo Mi viene l'ansia Perché non è il tipo di gioco da me Non è il tipo di gioco che mi piace Cioè Che ne vince solo uno A me piacciono più i giochi di squadra I I giochi di questo tipo Cioè E' un bel gioco eh Fortnite Anche se ora E' ingiocabile Ok? Mi spiego L'anno scorso Quando è uscito E c'era tutta la foga di Fortnite Anche io ci ho portato a fare Un po' di video Ci avevo fatto tra quattro video almeno No? Ciao Enrico Bella Ehm Però il livello di gioco era A una certa Ok? Ora Se giochi a Fortnite Perché sono tutti youtube Sono tutti streamer E' tutta gente brava Che gioca a Fortnite Quindi la curva di apprendimento Ora ha raggiunto un livello Molto alto E tu per raggiungere quel livello alto Della curva di apprendimento Ci metti un botto Non che sia infattibile Però preferisco altri giochi Cioè preferisco giocare Thief Simulator Thief Simulator Figata pazzesca Un gioco bellissimo Ho trovato un altro Non so se lo porterò Perché è un po' Particolare Ecco L'inventario è pieno Si ma non succede nulla raga No e poi non è pieno Ehm Come si dice Ho trovato uno Non so se portarlo Perché è un po' Devo vedere se Va bene oppure no E' un gioco su Sui barboni Cioè un simulatore di barboni Che voi direte Ma no sui ma no Di cattivo gusto Però no in teoria fa ridere divertente Quindi ci sto pensando Wizard101 Ma Wizard101 non è quella delle carte da gioco Non è proprio un MMO Se non mi ricordo male Ehm Kit Apocalypse Ma l'avevo finito Kit Apocalypse Ma Kit Apocalypse Avevo fatto tutto un episodio O no? Ah no Kit Apocalypse No è quello là dall'alto E vabbè ma non Non verrà piaciuto neanche così tanto purtroppo Qual è il mio Fast and Furious preferito? Allora Parliamone Parliamone perché Fast and Furious è un altro franchising che è andato a quel paese eh Cioè porca vacca Ho visto il trailer ieri del prossimo Fast and Furious che si chiama Fast and Furious Hobbs E Sean Sean come cazzo Vabbè che c'è Jason Statham e The Rock E c'è uno che porca puttana Sembra Sembra Deadpool che si inietta le Wolverine Si inietta le Le cellule tecnologiche nel corpo E diventa un supereroe Ma cos'è? Ma non era Fast and Furious Se volava di macchine? Cioè almeno fino alle altre Le ultime volte È un mix tra Fast and Furious e Mission Impossible Però porca puttana Non puoi Cioè Anche no Anche no Troppo Quindi i più belli secondo me sono Allora il primo Il primo storico Il primo è proprio bello Il primo è proprio bello È un classico Il secondo Me Forse preferisco Tokyo Drift Al secondo Perché Dominic Toretto ci deve essere Cioè Vin Diesel Senza Vin Diesel non è un Fast and Furious Semplicemente Davvero Davvero molto bello Però sì i primi Forse il primo Il terzo Anche il quarto Quello è il quarto Sulla parte originali erano Quella è il quarto Non mi ricordo Però sì I primi I primi molto più belli Perché lì era sulle macchine Ora è un Mission Impossible Cioè The Rock praticamente Mi sa che ha comprato il franchise In qualche modo Con la sua compagnia Non ti fa male la mano No in realtà devo ottenere premuto Cioè È abbastanza tranquillo L'inventario è pieno Avete ragione pure voi Ma la faccio un ragazzo se è pieno Dove si possono vedere tutti i Fast and Furious Eh Beh Oh ma guarda c'ho due cesti piene Ma di lusso raga Senza rendermene conto sto fermando un botto Parla di cibo Ma come? Team Iron Man o Team Capitan America? Team Iron Man Team Iron Man Ovvio Perché Cioè Capitan America Si era schierato col tipo lì Solo perché era il suo amico da una vita Vabbè però Sti cazzi Iron Man tutta la vita Allora Prendiamo uno stack di questo E due Di grano Così inizio a liberare un po' di ceste dal cacao Perché Sono troppo piene Parla di sesso Ma ti dirò Perché Va bene No Errore Iniziamo a riempire biscotti signori Tra poco aumenterà il counter Io non lo so ragazzi si prospetta Una brutta idea questa dei biscotti Per una brutta idea Cioè non sono manco a 100mila biscotti Di rendi conto E' bello che sto parlando in continuazione Quindi c'ho pure Come si dice Tutta la La bocca secca Devo bere qualcos'altro Questo è pieno Vai così Cattiveria Beach Guardà Ok sono altre due piene Uno e due Di certo non morirà di fame Sì ma questi non posso mangiarli ragazzi Cioè ogni biscotto rappresenta un iscritto Cioè non posso proprio fisicamente mangiarli Devo bere qualcosa Una serie di film che ti consiglio American Pie Le ho visti tutti fra Le ho visti tutti Se uno è nato negli anni 90 Le ho visti tutti American Pie È un classico Cioè ora Penso che sarebbero tipo Un po' devast- È triste come cosa Ma ora sarebbero devastati Perché sono sessisti Di qua di là Però quando ero piccolino Cacchio erano Belli Erano proprio belli Era Tra virgolette La verità trash americana Che uno si immaginava Bello Che vai al lago Tetone in costume Bello 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 Allora Ma è partito ultimo Partito ultimo Vabbè Allora Giù di biscottoni eh Lo chiamavano il biscottinator Questa è nata Ok Ok Sai che i rocchi Forse ho visto uno Non l'ho visti tutti Ram Anche Rambo Forse non l'ho visti tutti Rambo Non lo so Non mi pare Gli Imagine Dragons raga Sono troppo forti Troppo forti Grandi Li adoro Allora Sì Devo continuare a biscottare Vediamo se Il grano però Sta effettivamente aumentando Oppure no Io non ci credo quanta roba ho perso Per colpa Di un'opera Boia Vabbè Dark non l'ho visto Black Mirror Ho visto solo alcune cose Sotto suggerimento Di Jamma Tra l'altro Ma Non l'ho visto troppo No Anzi Anzi Quello che ho visto non è che mi sia piaciuto tantissimo Devo dirvi la verità Questo lo mettiamo sotto Così non interrompo il flow Aggiornare il counter è un attimo un attimo Allora Biscottiamo Pensava fosse così stancante fare dei biscotti signori Siamo in live da due ore A fare i biscotti No cosa ho fatto Cacchi raga Durare a fare i biscotti Impegnativo Porca vacca Se è impegnativo Un altro 3 6 Posso fare anche un altro Ok Boom Poi se deve arrivare questi 8 perché danno fastidio Ok Tanto Biscotto più Biscotto meno Non è che cambia la vita Anzi posso fare così E così Giusto Giusto No questo non è ancora pieno Cacchio sbagliato Le carote d'oro Ma si raga tanto Cioè voglio dire Non è che sto proprio Propriamente soffrendo La La mancanza di cose Allora facciamo 64 Bisogna un altro pezzetto di cacao Ok Forza e coraggio Eh si Forza e coraggio davvero Scusa io mi ero detto che non volevo Arrivato Voglio arrivare solo alla sesta e poi sto andando avanti oltre Se fu un hub Un hub Gris Anatomy no Non ho mai visto Gris Anatomy Aia Fermare il collo Oddio che è successo Ehm The Cardigans My favorite game Sentila Ma lo sentirò Ma te chiamiamo I met your mother Sai che è biscottino? Marshall Mariello Guarda che io Ehm So che Biscottino è Marshall Ma io in realtà la guardo in inglese I met your mother Quindi per me è big fudge Che è tipo fudge Ehm Sarebbe tipo Un brownie Quindi non è proprio un biscottone Big fudge è Non so se un brownie in teoria Quindi per me è big fudge Non è biscottino Allora guarda voglio finire questa E poi iniziai dal basso Perché non voglio Perdere tempo A saltare Per cercare di fare cose Quindi Completiamo questa E poi torniamo in basso Ok Molto meglio Ok Ma è così Cattivissimo Si Ma è così Ma è così No Mamma mia Se per sbaglio Se per sbaglio Faccio 64 panini Raga è finita Ti seguo dal risultato Però il power grande 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 E anche la prima andata E tra l'altro Qua c'è un altro piccolo problema Pratico Che dovrei Fare un botto Ehm Di Pelle Non è un problema Perché ho un botto di mucche Eh Però Stiamo arrivando da quasi due ore C'è un'ora e 45 Allora Io ho bisogno Di contare Quanti siamo Quanto siamo Siamo a Ehm 9 18 21 22 23 24 Siamo a 24 doppie ceste Siamo al doppio di quando ho iniziato Porca puttana Ah Impegnativa la situa eh Impegnativa La cosa positiva è che ho trovato un modo per formare il cacao easy Che era la mia preoccupazione principale in realtà Ultimo solo la regina del flow Ehm Ehm Ok Non l'ho Non l'ho mai vista Non penso di averlo Proprio mai visto nel senso che Di solito Netflix me le consiglia Io non le guardo Se una cosa non mi ispirano la guardo semplicemente Ehm Devo provare Provare ad avere un occhio Regina del flow Va bene Ok Fammi sui biscotti Tutti i biscotti Grazie Oh Imagine Dragons Se stavo parlando prima Perché ti fa aiutare da qualcuno È una sfida ragazzi Potrei Certo Se muoio male Però non posso Perché il mio mondo è single player raga Dove aprire l'an Cioè è fattibile Eh Non l'ho mai fatto prima Ma è fattibile Dove mettere il mio mondo sul real Ma E allora sì Potenzialmente sì Se metto il mio mondo è un real Ma si può fare Ok Ok Ops Craftato più del dovuto Merda Ehm 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 ha aspettato il mio gatto con quel rumore e lo so ma mi ingrattava mi chiudeva la gola bella manuele che ansia continuiamo continuiamo si crafta signori sapete che a una certa smetterò di parlare vero perchè se si fa il saltino a fine video ho smesso tipo tre anni fa di fare il saltino a fine video forse anche di più metto l'email ah chi dice ok uh ah let's go ok sente la musica si abbasso un po' cioè la cosa peggiore che può succedere è che trova la musica e quindi devo cancellarla la e poi però insomma non sarà troppo un problema penso ciao Marco ma un sistema di riempimento automatico sai quanto ferro mi serve sai quanto ferro mi serve per fare un sistema di riempimento automatico non ce la farò mai allora ok quanto stiamo 9 18 21 22 23 24 25 26 27 28 28 qualcuno fa il calcolo quanti biscotti sono questi 28 doppie ceste di biscotti a quanto stiamo siamo a 100mila ma dovremmo quasi esserci forse sono una fracca bello sono 100 e non lo so questo deve fare io il calcolo sono 28 ceste per un attimo tanto c'ho qua la calcolatrice allora sono 64 per 54 sono 3400 per 28 sono 96768 biscotti ci mancano 3000 biscotti ai primi 100mila porca puttana a mio dio sto deprimendo ragazzi sto deprimendo ok però che manca maglietta in frame anche quindi poi devo calcolare sarà un casino abbiamo detto che faccio i primi sei giusto quindi manca l'ultima lì ok il vero prima sarà quando finirò il grano poi manca ancora una cesta di grano c'è un ragno dentro le scale no 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 sono le leve mi ha fatto cadere addosso se qua ci fosse un mob sarebbe pericolosissimo allora questa è la sesta e ultima giusto si allora non devo non devo saltare altrimenti mi metto a riempire ceste che non dovrei riempire ok siamo a 29 29 dovremmo essere a 100mila no dovremmo essere a 100mila o sbaglio aspetta dov'è accolatrice sono 64 per 56 56 no era per 54 si per 29 100mila 224 si si siamo a 100mila ragazzi oh mio dio ho craftato 100mila biscotti porca vacca oh mio dio ho fatto un po' di carotine va bisogna di svenire poi devo farlo altre 25 volte porca che me l'hai detto oh mamma mia bella suri oggi quindi si craftano pochi biscotti eh si proprio pochi mannaggia sai qual è il vero problema quando finora il grano perché il grano non si fa ma così velocemente come con con il cacao il cacao è easy il grano è problematico il grano è problematico raga escevi due alle due no raga no perché se tutto va bene sarò ancora in live alle due a fare i biscotti oh mamma mia allora ti dirò non pensavo fosse comodo la roba di time frame invece è comodissima perché altrimenti non so dove mettere i biscotti siamo a 30 o mamma mia oh mamma mia mettete i freni di fare 735 biscotti più ma non è un problema cioè questi sono quasi 640 biscotti cioè in confronto a tutti quelli che ho mille biscotti non mi cambia la vita dove c'è il bici dove c'è il grano dove c'è il grano dove c'è il grano dammi il grano cacca cacca la nostra finito il grano aia aia bella lanfranco e siamo a 31 e siamo a 31 32 forse deve prendere quei 3 time frame da là sopra ok perchè hai fatto questa sfida non lo so me ne sto prendendo tantissimo proprio tanto sai quando ti penti allora di solito c'è chi dice ci sono no quelle situazioni online no in cui ti dicono i video motivazionali la gente non si pente di ciò che fa si pente di ciò che non fa e non lo so sai ti dirò ti dirò in questo momento in questo momento mi sto leggermente pentendo di quello che sto facendo però non lo so eh non lo so ognuno il suo madonna mia ah dovevo posare ste robe ok ora la situazione un po' greve in realtà perchè stiamo iniziando a scarseggiare col grano abbiamo solo un altro rifillino qui eh poi non basta io sono un altro rifillino grave meglio rimorsi che rimpianti no rimorso e rimpianto è la stessa cosa no eh sì stessa cosa dove sei per un esame ma suri e suri hai ragione pure te i biscotti sono i biscotti cosa vuoi che ti dica va bene andiamo giù di cattiveria la quarta giusto la quarta vai così vai così butta tutto il grano cacao a terra e crafta no no trovo meglio così fidati perchè poi magari prendo che è successo dov'è il mio cacao ho messo cacao mi sono cagato addosso ragazzi ti giuro mi sono cagato addosso non ho visto più i biscotti ho detto orcavaccheca la sono già diventato pazzo sto iniziando ad avere le allucinazioni finita lì ok ok e anche la numero 33 è andata 33 gli anni di cristo quando facevo la tombo la mia nonna diceva così iniziamo con la 34 incredibile ok esce il gioco completo di astroniere interessante potrei si potrei riportarlo il gioco completo pensavo fosse tipo un'altra uscita tipo alfa beta cosa di quelle robe lì vabbè prendiamo tutto il grano qui perchè questo qui voglio metterlo in basso insieme al resto è utile tornare in cima ogni volta vuoto vuoto ah prendiamo questo di cacao ok 4 5 vai così questo vi ricordo è l'ultimo refill di grano che ho per il momento quindi poi bisognerà craftare cioè non craftare, farmare scusate sono già fuso ok e questa è la numero 34 ok e questa è la numero 34 ok ok ora abbiamo c'è un biscotto storto e lo so raga ma ci interessa così tanto ma in effetti si che si che ci cambia vai dritto dai ok sono tutti dritti sono tutti dritti sembrerebbe di sì un po' noiosetta eh eh che ti devo dire ti mancano solo 700 ceste no rimanca la 35esima mancano 701 ceste oh madonna il grano puoi farmarlo alla fam di alberi sottoterra eeeh ne preferisco farmarlo qua in realtà intanto se mini ne ho come vedete vedere se mini non sono un problema vediamo la fam cosa mi ha dato in teoria poco perché è molto lenta questa fam di grano è comoda perché è completamente automatica ma lenta come non so cosa guardate mi ha dato malapena 4 stack di grano perché ho scelto proprio i biscotti perché sono difficili se uscire qualcosa di semplice non era una sfida scusate a fare mega farm di grano che non ho non ho una mega farm di grano quello è solo per bellezza cioè non non funziona allora in realtà quello che posso fare è prendere un po' di semini io ricordo a tutti che ho qua sotto la farm di grano la nano farm c'è un po' di bombina a tutte e due parti eeeh e ora con molta calma tengo piovuto il tasto destro è lento? sicuramente però è sostenibile uff se dovessi fare le torte porca vacca lo sai che ci ho pensato ci ho pensato ma le torte cioè le torte per me è delle torte che devi usare i secchi di latte che sono infiniti perché se hai una mucca sono infiniti che non è un problema di trovarli per me è che per il crafting wow wow sarebbe da un disastro perché non fare il terzo dovere della farm perché non c'ho voglia non c'ho voglia perché non è così poi più efficiente capito? cioè ora in due minuti mi faccio uno stack di grano con questa nano farm tanto il bombial non è un problema se rimango a fk lì per un botto eeeh ottengo tante ossa e quindi posso fare tanta roba fidati meglio così che non aspettare altre robe duplica il grano e poi che sfida è insomma cosa si possa in realtà cioè dovresti duplicare tipo la ebay però il duplicatore raga non vale un trucco mancano 260 casse per arrivare a un milione arca vacca oh mio dio sto leggendo la chat che va velocissimo non si capisce nulla però in effetti voi siete più malati di me perché io lo sto facendo voi mi state guardando mentre lo sto facendo beh cose da pazzi siete dei pazzi furiosi come direbbe Montemagno sai che una certa io mi metterò così e dormirò mentre farmò oh mio dio vanno troppo veloci avere 41 anni e seguire surri ma minchia grande cesare cesare ciao cesare posso mettere più villager in un solo campo lo sai che in creative ci ho provato e la risposta è no perché altrimenti iniziano a givarsi le cose a vicenda cioè si trasformano il grano in panini e se lo danno a vicenda per accoppiarsi e quindi no non si può massimo un villager per campo ma non è una questione di villager per campo perché il villager va anche abbastanza veloce cioè a volte si prende delle pause ma va bene il problema è che cacchio il grano ci mette tanto a crescere una petizione per far fare sta sfida più di paio non credo accetterebbe mai sai non credo hai mai visto One Piece solo episodi sporadici ma è tutta la sella cacchio sono mille episodi peggio di minecraftita raga davvero fai un taglio eh visto la comodità la comodità di dei video di minecraftita che tagli e tutto il tempo lo devo perdere io te guardi sai già l'esultato ciao minuzzo dividi la farm in due parti e metti due villager ma non vale la pena non vale la pena perché un villager riesce riesce a sopportare quella quantità di grano e dovresti duplicarla quello che ho fatto per triplicarla ho bisogno di un botto di ferro ancora sensualmente ce l'ho c'ho due stag no due stag non bastano dovrei prendere altre rotaie a qualche parte ma puoi craftare tutto puoi portare il villager qui raga mamma mia non lo sbatti perché almeno devi portare il villager poi devi usare tutte le rotaie che ho usato per portare il villager e devi e devi farci cose fai finti di saltare qualche cesta eh no non vale che sfida è ragazzi deve essere un biscotto per ognuno di voi che è tanto fai il golden biscotto addirittura c'è ragazzi tutto casino per quattro stack di grano oh mamma mia oh mamma mia cioè il cacao in confronto questo miracoloso oh mamma mia sto mi sto per deprimere oh oh perché qual è il vero problema del grano è il semino è il semino che tu devi per forza ripiazzare il semino è quello il problema vero ciao k ci ha detto quanto quanto tipo ci ho passato qui quanto ci avrà passato cinque minuti circa io ti sto guardando mentre sto catalogando i venili di mio padre sono tipo cinquemila sto impazzendo porca vacca cinquemila venili sono un fottio sono sono cioè poi non sono due milioni e mezzo di biscotti però ci sono poi perca vacca cioè quanti minuti sono stato qui tanti tanti più di cinque minuti sicuro sette minuti circa otto facciamo dieci minuti no diciamo di troppo vuoi essere ottimista diciamo cinque minuti no non sono qui da venti minuti ma nella vita diciamo cinque minuti facciamo cinque facciamo cinque facciamo cinque in cinque minuti ho fatto cinque stack quindi è uno stack al minuto porca vacca uno stack al minuto cioè vuol dire che ci metto un'ora per fare una doppia cesta no è infattibile no è infattibile no c'è un problema devo fare una farm di grano più efficiente devo fare una super farm di grano devo fare una super farm di grano in cui posso aspettare però poi mi ritrovo davvero con un fottio di grano il tic aumenta il tic ma non so cosa sia che schi... perchè lo metti un villager a piazzare i semi all'infinito sai che potenzialmente sarebbe fattibile però poi dovrei mettere tipo sotto un minecart con l'hopper e ad ogni modo e poi sarebbe più lento però eh no allora secondo me la soluzione può essere la seguente creare una farm creare una farm poco cattiva di grano enorme in cui si magari ci metti 12 anni per per piazzare tutti i semini però almeno ti trovi con un botto di grano cioè perchè se io faccio non ci metto un minuto ok? non ci metto un minuto a crescere uno stack di grano no cacchio il grano è un casino ciao Martina il grano è un casino porca vacca cioè ora non potrei neanche fare un giro di biscotti perchè non ho abbastanza grano qui sono piazzissimi tra l'altro allora devo ragionarci usa dispenser con il bombiale nella farm coi villager no no deve essere cosa di più analogico più vecchio stile allora a parte che qua è notte cioè questo è poco in realtà questi sono diciotto per diciotto meno quattro quanto fa? la calcolatrice sono diciotto per diciotto meno quattro sono trecento venti blocchi di grano quando cresce sono trecento venti blocchi di grano mmm però non è neanche così grande usa famiglia di grano non è non c'è così tanta roba oltre a farlo così per le craute d'oro è questa qua è questa qua di sicuro mentre ragiono mettiamoci a farmare altro però sto ragionando sto ragionando perchè potenzialmente così non va bene potenzialmente così non va bene ragazzi no devo fare un'altra farm di grano deve essere una farm di grano enorme una farm di grano enorme per cui sì magari ci mette un botto a crescere però è enorme la farm di grano più grossa che tu abbia mai visto e deve essere automatica con l'acqua anzi no ragazzi è arrivato il momento di andare nel mio mondo in creative dobbiamo fare dei tentativi dobbiamo fare dei test allora sbottiamo qua tutto in teoria in teoria e ho bisogno non di fare questo questa è tutta la versione piccola di quello che sto facendo nel mio mondo devo fare una cosa più cazzuta per cui io mi ritrovo con una roba di questo tipo se io metto l'h qua sopra distrugge la farmland oppure no no ok non distrugge la farmland ottimo positivo positivo voglio fare una farm assurda di quelli la che dici porca vacca l'ha fatto sul serio l'ho fatto sul serio l'ho fatto sul serio allora non puoi fare il il bug che preme f11 si potenzialmente si ma non in live se no si sfancula tutto cioè si sfancula davvero tutto allora uh bella questa happy now kaigo bella questa canzone no voglio realizzare una cosa di questo tipo ci si prova più che altro ci si prova allora tra l'altro tra un po' bisogna anche ordinare da mangiare che c'ho fame prendiamo della cobblestone non non si posso mettere più villager per fanculo ragazzi purtroppo ok allora se io metto l'acqua lì qua siamo a posto poi qua sopra faccio la stessa cosa così qui faccio 3 4 e poi faccio così ok va bene mi sembra sensato qua c'è dell'acqua e poi praticamente così avanti ancora per un po' giusto perché 4 è il massimo che può idratare un coso d'acqua se io questo lo faccio all'interno della montagnola che sto utilizzando ora no spero ho sbagliato se io faccio questa cosa in una caverna è molto più semplice perché non devo piazzare tutto devo semplicemente ehm scavare nella maniera giusta ok qui abbiamo 16 con un altro raggiungo uno stack di roba ok che sono 16 e 32 con un altro diventa uno stack perchè questo non è intero? ok dobbiamo fare uno stack intero ok così ora ma quello che sto dicendo io è fare l'aperto perchè non arriva la luce del sole e il grano cresce più piano? hm non lo so puoi farlo largo quanto vuoi ah si potrei farlo più largo però il mio interesse è renderlo funzionale non deve essere per forza solo efficiente deve essere magari anche bellino da vedere e voglio far sì eh infatti si potrei farlo più largo in realtà perchè questo vuol dire che io posso farlo di almeno altri 4 di qua e 4 di qua qui può essere bello cazzuto e così abbiamo già duplicato triplicato la quantità di grano che riusciamo a fare così ok se io faccio una cosa di questo tipo più volte più volte un accanto all'altro allora se trova del sole aspetta però devo cercare su wikipedia perchè mi fate vedere un dubbio potreste avere ragione ehm no non è vero basta che ci sia un livello di luce sopra il 9 non va più veloce se c'è il sole mi ha fatto spaventare che pensavo avesse un minimo di senso invece no 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 ta 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 stegiuno che è che ci metto un botto a crescere il grano però eh mettere un botto a crescere il grano non pensavo sì lo so ragazzi che potrei ehm ciao salvatore vorrei inviarti un'opera d'arte dove ehm scrivimi su su direct di instagram ehm ti mando l'indirizzo dell'ufficio dove puoi mandare roba ehm però c'è un problema in tutto questo il problema è il seguente che io ho capito che posso mettere anche il tastino che farma da solo fila ci sono e va bene sono d'accordo si può fare però c'è un altro problema che anche se lo metto in automatico comunque mi da uno stack al minuto che è davvero davvero poco è davvero poco troppo poco quindi quello che io vorrei fare è una cosa di questo tipo ripetuta più volte in cui sì è lento perché magari per far crescere tutto ci vuole davvero mezz'ora per far crescere tutto il grano che c'è qua dentro poi magari questo avrebbe senso se fossero slab in realtà però va meno uguale per il momento va bene questo io metto una cosa di questo tipo e quando il grano cresce metto dell'acqua che parte da qua da qua in alto tipo tipo così po 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 di questo tipo ho bisogno di una serie di pistoni puntati verso il basso così no così ok pistoni che devono partire essere tutti sempre accesi con una bella leva non è troppo complicato facciamo così vediamo un po di redstone una cosa molto semplice no scusa il grano della farm che è fatto per bellezza eh ma non sarebbe efficiente ragazzi vi posso assicurare non sarebbe efficiente anche perché molto di quel grano è stato fatto crescere senza che ci sia dell'acqua vicino quindi non sarebbe proprio la cosa più efficiente del mondo mettiamo dell'acqua qui quindi io metto del grano proviamo seed bone meal abbiamo del grano qui del grano qui del grano qui e del grano qui arriva alla fine alla fine cosa c'è? c'è una serie di blocchi d'acqua che vanno eh non è abbastanza lungo però vabbè poi magari troviamo un modo è tutto che l'ho riportato di là oppure posso farlo ancora più grande farlo tipo il doppio quindici blocchi anzi diciassette blocchi tre, sei, sette, otto se io metto questo qui diventa una cosa di questo tipo se ho fatto bene, se ho azzeccato il blocco non ho azzeccato il blocco deve essere uno più in qua e poi tipo qua nel mezzo ci sarà un hopper però in questo modo quando io disattivo la leva l'acqua parte ah no ok giustamente se si aggiorna il pistone e manda tutto al paese devo metterlo un livello sopra o accanto addirittura ma forse potrei metterlo accanto se faccio così non so se funziona no ok lei funziona diciamo così ho cliccato l'acqua però non aspetto è andato tutto oltre overflow allora comunque avete capito più o meno l'idea avete capito più o meno l'idea però deve essere tipo dieci volte questo deve essere enorme enorme deve essere si può fare? che è che secondo me si può fare? si può fare ragazzi sui rimane un villager che vende il grano ma non lo mando mai nella vita hanno dei trade troppo scarsi per fare questa roba metti degli slab sopra l'acqua di raccolta quella lì o questa qua? questa qua? eh no se metto gli slab perde senso vabbè comunque questa è solo l'idea iniziale che è successo? ti avevo scritto in chat ma non mi cagavi hai già ordinato il pranzo? no ti ho salutato no ancora do eh ordina tardi te il pranzo è il nostro giorno di solito ma ci sentono? si si ciao ciao quello era Stefano allora devo ordinare da mangiare giustamente ragazzi devi aiutarmi a ordinare cosa vuoi ordino di bello? allora ieri sera ho mangiato sushi panino giusto attenzione botto di panino giusto vedo carbonara la pizza boia la pizza mi piace la pizza o un hamburger o un hamburger peccato che su cacchio su youtube non si possa fare i sondaggi vero? se lo faccio slash poll non succede nulla infatti scherzavo? non siamo su twitch che mangio? bella domanda che mangio? no non voglio sporcarmi troppo le mani che sono in live un piatto di pasta in realtà sarebbe l'ideale un bel piatto di pasta un bel piatto di pasta mangia Stefano mi sembra biscotti purtroppo ho detto che avrei cercato noi cerchiamo allora vediamo biscotti ci sono biscotti di frolla un euro ottanta un biscotto un euro ottanta un biscotto adesso è un biscotto molto buono ci sono i cantucci però non sono propriamente ciò che sto facendo io no niente purtroppo non ci sono biscottoni allora pasta quindi carbonara ho mangiato l'altro ieri la carbonara raga no cacio e pepe no ci sarebbe allora pacchi al pomodoro buoni con la burrata con la burrata andata e poi cos'altro un dolcino dai un dolcino prendiamo il dolcino cioè tiramisù torta della nonna che è buona mmm torta della nonna era davvero buona cacchio macedonia macedonia tortino al cioccolato panna cotta con crema al lampone no penso che non la torta della nonna ok intanto mo sto ordinando ora ma arriva tra mezz'ora eh quindi stiamo calmini allora questo potenzialmente per me ha senso non so per voi ma per me si quindi proviamo a fare questo ci proviamo ci potremo provare perchè no dove lo facciamo però sorge questo problema non torta della vecchia torta della nonna perchè cos'è la torta della vecchia non esiste madonna allora e tutto questo claus è a sciare mannaggia sta sciando dove sono qui a fare i biscotti va bene minecraft it allora lo so che ci sono micro fan più efficienti però il problema è lo stesso che non è così veloce si potrei raddoppiare l'efficienza sono abbastanza sicuro che si ce la potrei fare raddoppiare l'efficienza ma vuol dire comunque due stack ogni minuto è pochissimo quanti biscotti ho fatto? moltiplicate quasi 100mila sono 100mila biscotti puoi sperare come si fa a donare? ma guarda in realtà io non è che incentivi chissà quanto le donazioni c'è la super chat è l'unico modo non metto paypal o altre cose del genere ehm allora non si vede l'inventario rapido? come no? come no? sai che si vede allora se io scavassi qua dentro potrebbe starci e fare qui la farm di grano poi no però qua io devo copirlo con le ceste se no non non ce la faccio non lo so ragazzi che dite nei lati metti dispenser con i bon meal ci sono già sono questi dispenser con i bon meal con un botto di bon meal il bon meal finisce anche troppo in fretta se è per quello sotto al biscottone ma vorrei che fosse tutto vicino quindi penso che lo farò lì in effetti lo farò lì sì 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 cioè ora mi ha fatto un altro stack questo ti rendi conto troppo lento troppo lento in effetti io mi sono ritrovato con un botto di di grano ma perché cioè sono rimasto qui giorni e giorni a fk a farmare con una farm che non è così efficiente quindi quindi bisogno del piccone e la spada anche se ci fosse una caverna anche l'arco e questo ora potenzialmente se io scavassi in modo tale da avere qui tutto il layer allora quanto abbiamo contato erano 4 erano 4 giusto 1 2 3 4 erano 12 quindi così e così sono 4 8 non ne manca 1 questo sarebbe uno di quei livelli lì va bene ora se io vuoi si farlo proprio simmetrico in modo che sia tutto così prendi il beacon e mettici haste e ora non mi sa che lo prendo allora quanti blocchi sono? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 va bene quindi dovrei avere 2 di di mid diciamo un po' più complicato del previsto allora ma si è stupata la musica tra l'altro? non parte più eccola sto ragionando potrei mettere 4 4 4 2 di mezzo 4 4 4 quindi tipo fare 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 no comunque 1 4 4 1 4 4 1 hai ragione potrebbe andare tipo 1 qui qui allora proviamo perché prima di iniziare a scavare devo capire come metterle 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tipo così tipo così 4 4 doppia pausa 4 4 così almeno è simmetrico perdo dell'efficienza ma per la simmetria questo ed altro allora quanto arriva il cibo tra l'altro? aspetta eh un globo non mi trovo ad ordine bello oh ok arriva tra buonanotte 10 minuti posso andare allora diciamo che così va bene potenzialmente ok? potenzialmente si io ho bisogno di un livello base che sarà questo qui in cui ci saranno quattro livelli oh no 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 non dirmi così no 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 cos'è questa? una caverna normale che ho già spolato tra l'altro quindi ottimo possiamo farci tutta la chiusura così tanto qua qui c'è comunque della terra quindi chiudiamo tutto e stiamo tranquillini così ok così poi è più facile scavare Va bene Ah abbiamo detto 4 Però è che io porterei anche un bico Ma non ho abbastanza blocchi Per farlo E per avere haste Poi devo fare un buco che arriva fino al cielo Schermalo con il mio picco E' nato c'ho super efficiency Questa live ha preso una piega inaspettata ragazzi Vedo la verità Perché non so se riusciamo a fare tanti altri biscotti Allora diciamo che siamo messi così potenzialmente Ok E io voglio che ci siano 4 Almeno 4 Quindi altri 2 per tipo Va bene E ora si scava Potenzialmente prova dell'anno si ma da più anni in realtà Devo stare attento a far si che qua sia sempre tutto illuminato comunque Perché altrimenti poi mi spone un creeper che esplode E fa uscire biscotti dalle ceste Non va bene Non deve succedere Allora Se io mettessi la terra qui Mi arriverebbe poi qui Quindi devo fare il contrario La terra qui Quindi 1,2,3,4 No 1,2,3,4 Questa sarà terra Terra che ora ho in magazzino Quindi poi devo andare a prendere Qui sono 4 per 4 4 per 4 Ok Ridendo e scherzando ragazzi Siamo in live Porca porca vacca Ecco Torna su Siamo arrivati da quasi 3 ore Ridendo e scherzando Anse è Ridendo e sterminando Altro che Ok 1,2,3,4 Sì sì non ci interessa Ok Ok Qui ci sarà Roba Poi è bello che non ho manco Dietro due secchi di Non ho la fonte d'acqua infinita Qua c'è solo un secchiello Però se io scavassi poi qui Questi blocchi Ci metto l'acqua dentro Siamo a cavallo Ok Devo andare a prendere un po' di secchi Marca vacca Stai un po' a fermo tu Ok Per il momento qui attorno Saranno Solo torce E Impedire che sponi gente Che io ho paura che qua ci spona qualcosa E poi finisce male Io già lo so Attenzione notifica del corriere Mi arriva il pranzo Dai che arriva il pranzo Dai Sta arrivando Sta arrivando Allora La pazienza infinita di Surry Ma dillo Dillo ad alta voce per favore Ciao mi saluti Mi chiamo Virginia Ciao Virginia Eppure notte Che bello Avevo bisogno di prendere Buongiornissimo Caffè Bisogno di prendere Un paio di secchi d'acqua Sicuramente Quanti creeper Faccio Cazzo Botto di acqua Due almeno E la terra Ne so già prendere un botto di terra Che tanto mi serve E voglio andare al mare Ok Ciao Roberto Poi c'è scritto Ivan Ciao mi saluti Mi chiamo Roberto Ti chiami Ivan O ti chiami Roberto Non ho mica capito Bisogna un altro secchiello Uno era già lì Però Sti gazzi Ciao Samuele Ehi che è successo Ho preparato uno spuntino Grazie ma ho ordinato Ma questo è fatto con l'amore Dividiamolo No è tutto tuo Io ce ne ho un altro Ah ok Grazie Aspetta che vi faccio vedere Cosa? Ha detto Mi ha fatto un panino col tonno E la maionese Vabbè Antipasto Buono Buon culo Non ho dato un piatto di pasta E' un dolce Ma chi lo mangia Vabbè Ho dato dei paccheri Molto buoni Allora Si Terra Bisogno di terra Quanta terra ho? Non molta Pensavo di più Prendiamolo Diversi stack Ok Forse sono presi troppi Questa non mi serve Buono sto palino Sto facendo l'smr Visto? Che bravo Faccio pure l'smr Allora Io metto l'acqua qui E l'acqua qui E l'acqua qui E faccio una fonte dell'acqua infinita Le faccio la stessa cosa di qua Così No Così E così Così E così No Così Voilà Voilà Ora Prendo la terra E riempio Ok Questo è il primo layer Sono quattro slot Da 4x4 E uno stack Quindi così Potenzialmente È il primo stack Questo è la nostra roba Ma lo so che Comunque Porca vacca Ci vorranno i secoli Ci vorranno i secoli Perché c'è bisogno Di una quantità Di grano Raga Incredibile L'ho vista La microfono del mango Però Non è così tanto Più efficiente Che la mia Cioè Si magari Raddoppia l'efficienza Ma è comunque lenta Hai ragione Posso fare il dispenser Quindi ora che si fa Si sale Si sale Si fa così Quindi capite che È un processo Davvero lungo Due Tre Quattro Ok Quattro Quattro Quindi potenzialmente Qui poi È dove andrà L'acqua Devo scavare un botto Però Perché altrimenti Non posso muovermi In tale zone Cosa sto facendo Sto creando un'altra farm Di grano Più grande Di quella Che ho sopra Perché altrimenti Qua non riesco a fare nulla Assolutamente nulla Davvero buono Sto pagno con tonno Sto pagno con tonno Oh Sta arrivando Glovo Si sta arrivando Mi assenterò un attimino Raga Che andrà a prendere Un cibo Ok Aspetta Sta arrivando Cazzo è qua sotto Aspetta Arrivo subito Raga Cazzo è qua Cazzo è qua Grazie a tutti Grazie a tutti Mi sono incantrato No Zio mi sfondi il letto Le scarpe Come cazzo è qua Mi sono incantato a vedermi E zio A parte che ci ho pensato su Ma raga mi sono rotto un braccio Non potete aprire Ma ti sei mutato Ero mutato prima No Vuoi tu l'altra metà Tozzi Niente raga Fail Vuoi tu Sì è buono Ma ho un botto di roba Ok grazie Ok grazie Ci ha provato Vi faccio vedere cosa ho ordinato Raga eh Aspetta a metto la videocamera grossa Questo è il dolce Che si è spezzato a metà Che è la torta della nonna Che non sembra buona Ma è buonissima Poi abbiamo Paccheri Aspetta Questo è un po' un casino Paccheri Pomodoro Pistacchi E burrata Che ora ci voglio mettere dentro E niente Quindi siete assomato No A vero E quindi E quindi Signori Questo si è trasformato Ufficialmente In un mukbang Quindi No no Stefano non c'è più sotto il letto L'ho mandato via Ho visto la videocamera Sono entrato Ho visto la videocamera Sotto il letto Che cosa sta succedendo Buon appetito raga Anche a voi Io ci butto là Guarda qua Scusco Ok E niente Ora si mangia Poi sono proprio buoni Sti cose Non mangio i biscotti L'ho provato A cercare Si la pasta è mi scusi Un posto molto buono Qua a Milano Buonissimo 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 raga Allora Mukbang o non mukbang Qua bisogna andare avanti Ok Ok Quindi Si fa così Si fa così Così E si pazza un po' d'acqua Che dici Mi sembra una cosa sensata E poi si fa così Stiamo a cavallo In realtà Sapete che potrei mettere Semplicemente l'acqua qua in mezzo E mettereci sopra degli slab Cioè Potrebbe venire Molto meglio Cioè Si potrebbe mettere Molto meno tempo Più che altro Figa buonissimo Si in realtà si Riespera un botto d'acqua Basta metterlo qua in mezzo Devo fare Uno due tre quattro Uno due tre quattro Qui mettere degli slab Bisogno di slab Si un divisore di due Ma perché Che altrimenti non era simmetrico Facciamo degli slab Tipo così Allora Dico se lo faccio così Uno due Tre Quattro E ci metto qui l'acqua Siamo a cavare lo stesso Perché poi io qui ci metto gli slab E qui Tutta la terra Può essere Fertilizzata Dammi la Torcia Ok Ma in realtà così mi sembra un'ottima idea Faccio lo stesso anche di qua Ragazzi io sto sperando che in mente questa roba Poi torno di là E mi ritrovo con 16 milioni di Di pezzi di grano E' meglio di niente Allora Mettiamo anche di qua la terra Ok Molto importante l'illuminazione Se no qua finisce male Io ve lo dico Fai così Ok Vabbè Ora qua devo scavare in realtà Però Quattro 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 Se no vuoi quanto avanti dovrei andare Anche perché una certa qui mi batterò Potenzialmente Cioè la montagna sta per finire Non so se avete presente quanto ho scavato questa montagna Bella lunga eh Porca vacca Bella lunga Quindi non vorrei diciamo approfittarmene troppo Ecco per così dire Uno due Tre No Tre E così Ok Quindi la terra Uno due tre Quattro Ok No no le torce Mannaggia No Eccala Così che spona la gente Che poi muoio Non voglio morire Più torce Più torce Piccolo di rassunto Sono live da tre ore Ho fatto centomila biscotti Sono disperato Sono disperato Perché non ho abbastanza Un attimo così va Sono disperato Perché non ho abbastanza grano Per fare ciò che voglio Guarda qua che buono Mamma mia Buonissimo Diciamo che ho fatto missioni più semplici Cioè nella mia carriera Di minecraft Che Po I Cosa sto facendo? Sto mangiando, sto pranzando Lascio sapere, guarda mamma mia che buono La tuta non c'è andato a sciare Fortunato lui Bello sciare Ciao Ajai Ajai Non so come si pronuncia Ajai C'era un pezzo di guscio di pistacchio Benvenuti in questo Suri ASMR Ben trovati Foltini e folettini Volete sapere la verità ragazzi? Siamo dove da tre ore Potenzialmente sto per terminare la live perché O deve avere da tre ore che stiamo giocando Che è un botto di tempo Poi per terminare tutta sta roba Comunque Ci vuole un botto E l'unica speranza che posso avere di lasciare il gioco come ho fatto per la farm di pesca Con i semini Con i semini lì Però per me che non ho Cioè ragazzi per me è questo Cioè non so per quale motivo vi sta piacendo questa live La live più noiosa della storia Però vi sta piacendo E non mi sto lamentando di quello Mi sto lamentando del fatto che Porca vacca Non posso più craftare i biscotti Perché tra po' finisco il bon meal E quindi devo tornare Sopra il mob grinder Per farmare il bon meal E poi devo farmare il grano E poi devo farmare il cacao Quindi Cioè nel senso La continuerò Farò un'altra live Perché solo in live posso fare le storie di biscotti Cioè se la faccio negli episodi di minecraftita Cioè ha una certa Un po' una rottura di cabasisi Lo capisco Però penso che Magari Non so Sabato prossimo c'ho degli impegni Aspettate controllo il calendario Ah potenzialmente sabato prossimo O quando avrò modo di Farò un'altra live Oppure il contrario Farmo un bordello Un bordello Un bordello in off camera E poi Metto solo a craftare i biscotti in live Cioè ragazzi In tre ore ho fatto Quanto ho fatto? Sessantamila biscotti Niente Quindi se riesco a formare del grano Potenzialmente anche domani Poi raga Voglio sapere Io non sono beato a stare in live Per tant'ora Non sono Stefano Non ce la faccio Cioè Stefano va Si fa anche sei ore di live Io già tre raga Non so più cosa dire Mi fa male la gola Non parlo così tanto Da tre anni Quindi vi ringrazio tantissimo Per la compagnia Io ora finirò di mangiare Devo anche fare altre cose oggi Tra l'altro Tra cui registrare il video delle sette E niente Questo Questo è quanto Potenzialmente ci vediamo domani con la live Se riesco a portarmi abbastanza avanti Altrimenti Prossimamente Però come vi ho anticipato Porca vacca Questa sarà La sfida più impegnativa che abbiamo mai fatto in minecraft Perché porca vacca Ho bisogno di tipo di mezzo milione di pezzi di grano Piacerebbe perlomeno No raga Non mi sto arrendendo Ti pare Ero consapevole che non sarei mai riuscito a finirla in una live Raga Non scherziamo Vi terrò aggiornati ragazzi Seguitemi su Instagram Nel caso non lo faceste già Chiacciola surri Perché lì vi darò informazioni Non è che questa live è andata per caso in realtà Perché Ieri sera ho installato Diciamo installato Ho costruito questa Farm di cacao Allora stamattina ho preso bene Ho detto dai Vado in live Comunque Tanto grazie mille Un botto di spettatori ragazzi Cioè Media tipo di 7-8 mila spettatori Non l'avico Crafto biscotti Grazie mille Io finisco la di pranzare Quindi ci vediamo prossimamente Che i biscotti Siano con voi Non lo so Grazie mille Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie.